Ecco, la registrazione è partita, ammetto ancora il collega Michele. Siamo arrivati al secondo incontro di questo corso di formazione sulla didattica della storia antica, davvero è una cosa a cui tengo molto perché, l'ho detto già l'altra volta, spesso la storia antica viene lasciata un pochino ai margini dello studio. Se non ci sono docenti che hanno una particolare passione o altro, purtroppo soprattutto le prime parti della storia si liquidano in poco tempo. Quando poi si arriva a fare i greci e i romani, allora lì ci si allunga un po' di più. Io spero che il dottor Giampiero Rossi, che collabora con l'Università Cattolica di Milano, possa fornirvi possibili spunti per la vostra didattica e anche possibili idee per sviluppare delle progettualità con i ragazzi, sempre su questo tema della storia antica. Poi, una volta che riusciremo ad andare a Roma, ci farà fare anche una visita guidata in Roma. Quindi, questo sicuramente dobbiamo farlo. Io oggi non riesco a rimanere collegato tutto il pomeriggio perché ho appuntamenti qui in ufficio, ma ci tenevo a salutarvi e ringraziare i docenti che hanno aderito a questo corso. Ve l'ho detto, mi fa davvero molto piacere, tanto i docenti di Sondio che quelli di Cremone, in questa unione in persona del provveditore, in due province distanti, ma in questo caso unite. Grazie, Gian Piero, per la disponibilità. Grazie anche a Marco, Pietro e Giovanna, che si è occupato della connessione. Buon lavoro, buon corso, grazie a tutti e ci vediamo giovedì prossimo. Va bene, grazie. Grazie, buona contribuzione. Grazie, buon lavoro. Buona giornata, arrivederci. Arrivederci. Grazie. Allora, buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio. Come vi trovo? Bene? Non siete convintissimi, però capisco il perché, insomma, però va bene. Tanto ormai anche il Lazio è rosso, quindi ve lo dico, siamo costretti tutti a casa, esatto. Meglio adesso che dopo, diciamo così, dai. Allora, prima di cominciare volevo sapere, soprattutto, come mai non tutti mi hanno inviato l'email per avere il materiale? Cioè, ci sono stati problemi di qualche tipo o una dimenticanza o qualcosa? Comunque. Dimenticanza. Ok, comunque in chat, per il primo intervento della chat ho scritto la mia email. Quindi, se poi a fine lezione mi inviate una vostra email, sia per quanto riguarda, ovviamente se avete già il materiale della prima lezione, basta che mi indicate, o ve la rimando io, o mi rimandate voi l'email come preferite. Per chi invece non ha ricevuto neanche le lezioni, le materie della prima lezione, mi scriva gentilmente di inviargli entrambi. Ok? Così so a chi manca una e a chi no. Per il resto, lo sapete, c'erano domande per la lezione precedente? Qualche osservazione, qualche cosa, nulla che... Zero. Beh, ho visto addirittura uno se n'è andato a un certo punto, da 27 devo stare a 26, proprio non... Ok. Va bene. Ok. Domande di qualche tipo? No. Perfetto. Allora, adesso iniziamo presentando, un attimo che vi condivido lo schermo. Ok. La vedete? Sì. Ok. Purtroppo capita... Adesso non vedete più niente, vero? Si vede ancora? Si vede. Sì, sì, si vede. Si vede? Ok, allora, perché ho ridotto, diciamo, la schermata, quindi così posso vedervi un attimo anch'io. Ok. Allora, volevo iniziare questa lezione con una proposta di didattica sperimentale, che, diciamo, è stata applicata da poco, diciamo, è stata proposta da poco. Ed è praticamente il concetto di gaming, cioè il concetto di presentare un... come posso dire, un tema, una lezione, un qualcosa partendo da un videogioco. Ok? Vi ne parlo adesso perché la volta scorsa avevo parlato dell'antico Egitto. E questo, gaming, ha due sfaccettature. Una sull'antico Egitto e una sull'antica Grecia. Ok? Allora, adesso andiamo a vedere che cosa, ovviamente, chi la propone è l'Equipe Formativa Lombardia. E parla di, appunto, di sperimentazione didattica. Quindi dice, usare la didattica immersiva per progettare un percorso didattico trasversale, multidisciplinare, coinvolgente, si può. Questa è la sfida che ha spinto questa echipa a fare questo gioco. Ok? Da dove sono partiti? Il cliente è partito da un videogioco, se può alimentare veramente l'apprendimento, magari distrarre, perché... Ricordiamo che il termine gioco nasce proprio per non pensare. Ok? E poi dice, come possiamo rendere un'attività didattica divertente anche grazie a un videogioco? Ricordiamo se... Soprattutto, scusate, non ho fatto questa domanda, ma chi è presente ora? Era presente anche la volta scorsa? Sì. C'è qualcuno di nuovo? Io. Ok. Cioè, comunque, uno, due, siete nuove. Ok. Allora, solamente prima di continuare, una brevissima cosa, e tanto dipenderemo dopo. Praticamente, questo corso prevede di darvi degli strumenti maggiori per impostare delle lezioni. Ok? Tutto qua, niente di tanto astruso. Oppure se il nome di strumenti per la didattica... No. Praticamente serve solamente a darvi delle informazioni per non partire direttamente dal libro. Va bene? Ok, continuando. Dove siamo partiti? Abbiamo letto che, appunto, fa all'inizio una contraposizione tra gioco e divertimento e istruzione didattica. Va bene? Anche il percorso che è stato fatto. È stato fatto un'attivazione di un lavoro collaborativo tra docenti e discipline differenti per avviare pratiche di interdisciplinarità con le metodologie didattiche. Messa a disposizione e utilizzo di strumenti gratuiti per l'attività di progettazione, esplorazione, ricerca, comunicazione e creazione di artefatti digitali. uso della didattica immersiva del videogioco, quindi stiamo parlando di un videogioco che porta l'utente ad immergersi completamente nella realtà, interconnessa altre piattaforme digitali per la creazione di materiali didattici. L'attività è incentrata sugli studenti con cui il docente gioca il ruolo del facilitatore. Cioè, questo ci vuole dire che il gaming serve più che altro non tanto per imporre un qualcosa, cioè imporre un parolone, cioè nel senso non tanto per indicare solamente che cosa andare a fare, ma permette, proprio per la totalità di immersione all'interno di un videogioco, la possibilità dell'utente di immergersi completamente nella realtà che viene proposta e l'interazione gli permette anche di scoprire cose che non facevano parte né del percorso didattico e del docente, né tanto o meno della proposta di studio che è stata fatta per l'utilizzo di questo gaming. Quindi apre anche a più mondi, ok? Cosa mettono in gioco? Allora, il gaming permette di utilizzare diverse metodologie didattiche, ok? Che sono queste indicate. Quindi, quando si cerca sempre di fare delle lezioni diverse, questo è uno strumento che può essere utilizzato in questo modo. Io adesso ve lo propongo, poi lo vedremo pure, questo strumento. Poi ovviamente voi mi darete le vostre opinioni in merito. Qua dice, sperimentare la cross learning. Ok, cross, che divide appunto in sfida, ricerca, agire, raccontare e condividere. Perché poi vedremo un esempio di questo tipo, ok? Cosa propone? La didattica immersiva parte da questioni sfidanti, compiti realtà stimolanti. Quindi questo è tutto ciò che c'è intorno alla proposta di un gaming all'interno di una scuola, che può essere sia primaria che secondaria di secondo grado, ok? La ricerca dei materiali, ok? Che sviluppa la capacità di selezione delle informazioni e dell'attendibilità delle fonti. Ricordiamo appunto come abbiamo introdotto la lezione scorsa, proprio sullo studio di queste fonti, la ricerca delle fonti, che possono essere non solo di un unico tipo, ma di più tipi. Possono essere visive, tattili, possono essere di qualsiasi tipo. Operate, cioè gli studenti creano un ambiente immersivo e cooperativo per realizzare un prodotto virtuale. Cioè, alla fine, lo studente andrà a creare un qualcosa che porterà un prodotto, che può essere anche una lezione stessa da parte dello studente, che può essere una scoperta di un mondo diverso. Perché ricordiamo che l'immersione in un game permette soprattutto alla persona di immedesimarsi. E l'immedesimazione porta anche alla scoperta di mondi diversi, da quello che si conosce, ok? È come quando noi leggiamo un libro, la prima cosa che facciamo è pensarci all'interno del libro, cioè della storia del libro, ok? Poi la didattica immersiva diventa occasione di narrazione, storytelling e dibattito. Beh, questo è ovvio per il fatto soprattutto perché questo gioco, come vedremo, è, possiamo dire, suddiviso in tappe. Cioè, che vuol dire? Non è che io do l'informazione tutta e subito, ma attraverso l'interazione di un personaggio, di un avatar, che si trova all'interno di questo game, l'utente riesce ad avere più informazioni, però con le tempistiche giuste, con le tempistiche che prende lo stesso utente, non parto in automatico. È lo stesso utente che seleziona quando, se rivedere, se risentire le informazioni, ok? In più, gli studenti condividano, valutano i loro prodotti, rifletto sul percorso e valutano i prodotti in cooperative learning, ok? Poi c'è il supporto, ovviamente, di chi ha... E che è l'equipe formatica Lombardia, EFT. Ok? Adesso entriamo direttamente in questo gioco. Qua mi dovete dire se... Vedete? Vedete? No. No. No, no, io no. Non vedete il gioco, vero? Allora, un attimo solo. Questo dipende dal fatto che io ho... Ok. Vediamo, un secondo solo. No. Ok. Ok. Adesso? Sì, sì. Ok. Allora. Perfetto. Allora, questo è la prima pagina, diciamo così, ciò che viene visto una volta installato questo gioco. Poi parleremo anche delle parti tecniche, però è solo per farvi vedere. Come potete vedere dall'immagine, di cosa andremo a trattare? Egitto. Esatto. Perché, come vi ho detto all'inizio, questo gaming è stato basato sia sull'Egitto o sull'antica Grecia. Ok? Quindi, ve l'ho voluto far partire fin dall'inizio, così per farvi vedere anche le modalità di... come si... come l'utente si interfaccia con essa. Ok? E quindi, basta seguire le istruzioni e uno avvia direttamente. Andiamo agli tempi di... che ci vogliono. Ok, come potete vedere, questo è un avatar completamente mobile. in più l'avatar è completamente modificabile. Cioè, ci stanno degli avatar proposti, più di 20 ce ne sono. Ok? Questo diciamo che è quello... Mi scusi, io vedo l'immagine fissa. No, la vede che si muove? No. Ok, perché... Ok, adesso? No. Che per me è fissa. Domane è fissa. Domane è fissa, sì. Ok, siccome è un momento in cui si sta caricando l'immagine, vediamo se una volta caricata continua a diventare fissa oppure no. Ok? Comunque, vedete un'immagine di una persona? Sì. Ok. Sì. Ok. Però, ecco, l'indicazione appunto è l'avatar. Ovviamente non si può creare un avatar personale, però ci stanno varie scelte alla quale... E non solo, ci stanno anche avatar che riportano persone con abbigli normali, eh. Quindi non è che deve forse essere un'immersione totale dell'utente all'interno del videogioco. Ok, adesso diamo qualche minuto. Eccoci qua. Vediamo. Ok, cosa vedete adesso? Fissa, immagine fissa. Adesso si muove? No. No. Che immagine vedete? Una donna di spalle davanti a un paesaggio variegato. Ah, e basta? Sì. Sì. Perfetto. Allora. Aspettate, un attimo solo. Avete visto che è rimasta l'immagine iniziale, voi? Eh? Eh sì. Sì, non si è mossa come era dall'inizio. Ok. Adesso? Schermo nero. Eh, schermo nero, abbiamo delle forme geometriche. Adesso? Stessa cosa. Stessa cosa? Eh sì. Sì. Magari è un po' tanto pesante per... E non riesce a trasmettere. Probabilmente è una questione di pesantezza, mi dite? Eh, secondo me sì. Ok. Vediamo se io posso fare qualcosa. Un minuto solo. Allora. Vediamo se è in linea il dottor Pietro Giovanna? Sì sì, ci sono. Eh, un problema di sapere. Come diceva il collega Nuzzoli, è pesante la... Ah, quindi è permesso la vendita di quel motivo. Il videoyoco, insomma, la trasposizione dal videogioco alla videoconferenza, penso che sarà... Troppo pesante. Andrebbe anche molto a scatti, cioè la singola immagine... All'inizio si è vista una singola immagine caricata, ma non ha poi completato il caricamento, suppongo. Ok, ok. Le soluzioni non saprei. O c'è qualche filmato, o c'è qualche demo, cioè più che interattività, la demo del videogioco. Ok, ok. No, no, era così per sapere. Allora, niente. Allora, diciamo che in parte ve lo spiego, in parte poi forse lo riusciamo a vedere in un'altra modalità. Praticamente che succede? È un personaggio, un famoso avatar, come abbiamo detto prima, che si trova all'interno dell'antico Egitto. Il problema dei giochi, e uno ve lo dico subito io, è che purtroppo, o per fortuna, non è diviso cronologicamente. Cioè, se io vado ad Alessandria, trovo la città di Alessandria romana, ma io non... al tempo di Cheope Alessandria non esisteva, per dire. Ok? Quindi, diciamo che sta poi a chi propone l'attività decidere dove, come, quando presentarla. Cioè, se io sto parlando delle piramidi d'Egitto, non farò mai iniziare la persona ad Alessandria. Ok? O se io mi trovo ad Alessandria, sicuramente dirò, guardate che l'Egitto non è più sotto dominazione egiziana. Ok? Anche perché, per far capire meglio dove si trova una persona, non basta solamente il luogo intorno, ma anche il tempo, come abbiamo visto. Ok? Ovviamente non ve lo dico, però a voi, qualsiasi domanda o osservazione volete fare, fatela senza... cioè, non aspettate la fine della lezione. Ok? Bene. Vi do due modalità. Una di possibile... Oltre che c'è più di 70 percorsi già segnati, praticamente che succede? Questo avatar si muove all'interno di un percorso stabilito. Ovvero, questi 60 percorsi possono essere, possono trattare, non so, la vita quotidiana nell'antico Egitto, oppure la piramide di Cheope, oppure la Sfinge, oppure la mummificazione nell'antico Egitto. Ok? Oppure, siccome abbraccio un arco cronologico molto vasto fino all'epoca romana, ha anche la possibilità, per esempio, delle fortificazioni egiziane romane, per esempio. Ok? E il percorso come è diviso? C'è una linea luminosa sul terreno, divisa in tappe visibili, dove l'utente, il ragazzo, il bambino, si muove per seguire il percorso. Quindi ogni volta che sfiora uno di questi standardetti piccoli che si trovano nella via, gli appare, l'utente non ha più la possibilità di interagire, l'immagine che si trova davanti viene, diciamo, come posso dire, vista dall'alto, quindi c'è una panoramica maggiore, e su un lato vengono descritte alcune cose in spiegazione di quello che si sta vedendo. Ok? Quindi, ad esempio, la prima cosa che vedo è la piramide di... la spinge, oppure... o la piramide di Cheope. Quindi il personaggio si ferma davanti alla piramide e c'è un racconto ascoltato, quindi non è che deve per forza interagire leggendo il ragazzo, ok? E più, quello che viene detto a parole viene anche scritto con un'immagine in sottofondo, che l'utente può anche vi vedere singolarmente rispetto all'immagine del paesaggio che vede davanti a sé. Se non mi riesco a spiegare, ditemelo, perché io capisco che spiegare un videogioco senza vederlo è molto complicato, però cerco di spiegarvelo con altre parole se non riesco a spiegarmi, va bene? Tanto è solo che appunto un'introduzione, non è che vi... non potendo farvelo vedere, non vi faccio tutto il racconto, ovviamente. Bene, una volta terminata la spiegazione, la parte, la voce narrante che descrive questa cosa, ci sono due opzioni, o quello di riascoltarla, o quello di interagire direttamente con l'immagine che è apparsa accanto alla descrizione e poter interagire con quell'immagine come ingrandendola, ok? Quindi magari faccio vedere, parlo della sfinge e magari l'immagine che appare, scusi, scusate, parlo della piramide di Cheope e l'immagine che appare con la descrizione che oltretutto sto ascoltando, è la pianta della piramide o la sezione della piramide, ok? Che ovviamente a parole non la posso... cioè, nell'immagine la vedo come aggiunta, però l'immagine generica è sempre la visione generica, la visione dall'alto della piramide, ok? Vi vedo molto perplessi. Io capisco. Però quello che voglio far capire è questo, che c'è, ci sono due tipologie di visione. Una è quella dall'alto del paesaggio nella quale l'avatar è inserito, ok? Un'altra, che è contemporanea alla spiegazione, quindi solo alla spiegazione, non quando si muove l'avatar, c'è la possibilità di rileggere quello che viene detto a parole con dei contenuti aggiuntivi maggiori, tipo, appunto, può essere la sezione della piramide. Più andando avanti spiegherà chi era Cheope, chi era Kefren o chi era Micerina, a seconda della piramide che andremo a trattare, ok? Se no c'è un'altra e quindi ti spiega l'architettura, il come gli egiziani potevano arrivare a costruire piramidi di questo tipo, quindi monumenti di questo tipo, qual era la tipologia di tombo utilizzata all'epoca, ok? Quindi questo è un percorso. Se no c'è un'altra tipologia di percorso che prevede più l'aspetto che io ho definito sociali, cioè tipo la vita quotidiana, la mummificazione, la religione, gli scribbi, che anche questo prevedono una visione totalmente immersiva dell'utente. Cosa comporta? Per esempio, quanto riguarda la mummificazione, perché purtroppo, ripeto, non ve lo posso far vedere, per problemi di collegamento, che cosa comporta? L'avatar entra all'interno di una struttura che nell'antico Egitto era adibito alla mummificazione, perché non è che veniva fatto in uno studio medico, ovviamente, ma erano proprio adibite delle strutture alla mummificazione. E che fa questo avatar? Percorre l'interno della struttura e ogni metro, diciamo così, può interagire con la struttura, che può essere un personaggio o un oggetto, nella quale parte la descrizione di quello che l'imbalsamatore stava facendo in quel momento, e spiegare quindi quali sono tutte le fasi della mummificazione. Ovviamente il linguaggio utilizzato è un linguaggio adatto a tutti, sia bambini che non. E c'è la possibilità sempre di interagire, perché non sempre quello che si vede è uguale a quello che è presente come contenuto aggiuntivo. Quindi diciamo che come prima lettura o come primo utilizzo di questa modalità, di questo game, è esattamente questo, cioè l'immersione totale dell'utente all'interno. Quindi già vivere, parlare di antico Egitto e vivere con i vestiti e con le persone vestite allo stesso modo nell'antico Egitto, già questo comporta un passo avanti, perché comunque non diventa più astratto quello che si racconta. Ma è vero, non solo. L'ideatore ha utilizzato anche la lingua probabilmente parlata all'epoca. Come per quanto riguarda la Grecia, sentiremo la gente parlare in greco, non la sentiremo parlare in italiano. Ovviamente la gente parlare in greco non è quella con la quale noi interagiamo, quella con la quale non interagiamo, parlerà italiano sicuramente. Però i passanti, il mercato, parleranno la lingua locale, anche per far capire come parlavano. Vi ricordo ancora una puntata di Superquark, dove ci fu proprio una parte dove Piero Angela fece far vedere la differenza tra il latino parlato nell'antica Roma e il latino studiato nelle scuole. Già quello fa capire che tipo di approccio volevano avere con questo game. In secondo modo, c'è la possibilità di utilizzare questa ricostruzione virtuale per fare una vera e propria lezione, una vera e propria lezione di, come posso dire, una vera e propria lezione nelle varie modalità che abbiamo visto nella presentazione iniziale. E a questo punto, io, prima di introdurvi a questo, a questa tipologia che fosse quella un pochino più interessante, vi faccio vedere questo. Ok. Adesso ditemi... Questo lo vedete? Pronto? Sì, questo si vede. Perfetto. Allora, questa è solo l'opzione tecnica, ma ovviamente solamente per completezza delle informazioni. I requisiti minimi di utilizzo è quelli raccomandati. Basta un computer anche non di ultima generazione, visto che, appunto, anche Windows 7 fa girare perfettamente questo strumento. E poi fa un esempio... Cioè, qua c'è un esempio di didattica a distanza per l'utilizzo di questo game. Ok? E quindi leggiamo insieme. Una volta installato il videogioco sul PC di ogni studente, ci può essere la formazione di gruppi di maestrati e quattro persone con specifici ruoli da assumere anche a rotazione, che possa essere di coordinamento, di controllo, di monitoraggio, di gestione tecnologica e dei contenuti e altre possibilità. Se parliamo di attività sincrona, quindi in videoconferenza, c'è l'introduzione all'attività sull'impostazione cross-lesson, quelle di cui abbiamo visto prima. E l'attivazione... Queste sono tutte proposte, ovviamente. Non è che deve essere eseguita per forza questa metodologia. Quindi c'è la creazione di istanze con Google Meet, la versione G Suite, ad esempio, e consultare il video. Per esempio, qua è stato indicato anche il video per poter creare le stanze qualora non si fossero portati a farlo. Quindi con il monitoraggio sull'avanzamento e la creazione del prodotto finale, il supporto ai gruppi di lavoro, la gestione e il confronto tra i gruppi di lavoro e la valutazione dei prodotti creati. Mentre in modalità sincrona c'è prevalentemente il suggerimento di ricerca dei materiali, come abbiamo detto prima, ricercate quali sono i materiali utilizzati per la mummificazione, oppure quali erano i processi che compongono la mummificazione. Va bene? Poi c'è il supporto allo studio dei contenuti, le indicazioni delle aree del videogioco da esplorare, scusate, degli obiettivi da raggiungere, il sostegno e il monitoraggio del processo di creazione del prodotto finale. Adesso, prima di farvi alcune domande, vi faccio vedere un'altra proposta per quanto riguarda invece la didattica in presenza. Ok? Perché si spera uno tornerà presto a fare questo. Quindi, l'installazione del videogioco può essere fatta nel PC di ogni studente o sul PC della scuola da utilizzare in classe quei studenti in presenza, ovviamente. Se non si dispone di sufficienti PC, si consiglia di usare almeno uno per ogni gruppo di lavoro, in presenza, ovviamente. E quindi qua propone sempre la formazione di 3-4 gruppi che a rotazione, quindi hanno sempre lo stesso ruolo. È necessario garantire all'interno del sistema di videoconferenza una stanza d'incontro per ogni gruppo di lavoro. Videoconferenza, qua intesa, si parla sempre in presenza, però per far interagire tutti, perché non è detto che tutti siano in presenza e tutti no. Ok? In modo tale che tutti gli studenti possano comunicare e condividere il loro lavoro in modalità sincrona, rimanendo anche distanti quando non si possa stare tutti in un'unica classe. Quindi, l'attività sincrona prevede appunto l'attivazione sempre di brainstorm, il supporto del lavoro, è quella sincrona in questo. Adesso vi chiedo, ok, voi, cosa, come la vedete l'utilizzo di un videogioco, perché è un videogioco a tutti gli effetti, all'interno di una lezione? Cioè, ad oggi, come la vedete, sia per quanto riguarda la primaria che la secondaria e secondo grado, eh? Prego. Cioè, dopo tutto quello che ci siamo detti sulla possibilità, sia della modalità in cui è stato sviluppato questo gioco, sia con le proposte ultime che vi ho fatto vedere, cioè, era qualcosa di fattibile, di non fattibile, serve solo ad allungare, cioè, che osservazioni vi potete fare? Ah, prima di soltanto non abbiamo visto. Scusate? Il rischio è quello di allungare i tempi, è chiaro, è chiaro il tempo, un po' si dilata, eccetera. Sicuramente può essere, come dire, uno stimolo in più, ecco, perché, come dire, in qualche modo, anche con quell'avatar, ci può essere una sorta di identificazione, come dire, nella fantasia, o magari degli studenti più giovani, forse quelli più grandi, sono un po' meno, possono essere un po' meno propensi, però stiamo parlando di, al limite di una prima superiore, quindi, ragazzi, è chiaro poi, l'approfondimento, è il passo successivo, ecco, io lo vedo, li vedo così, questi strumenti, diciamo, multimediali, quindi, il banale filmato, che tu fai vedere, no, sulla lì, ecco, è chiaro poi, ci devono mettere anche un po', no, dell'uso del manuale, dell'approfondimento, l'uso del lessico, poi, come dire, la razionalizzazione, no, di quello che, che si è visto. Quindi, diciamo, che come, come, utile, i ragazzi adesso sono abituati un po' a questo tipo di, di, di oggetto, diciamo, e quindi può essere, in qualche modo, utile, stimolante, appunto, come, come avvio del lavoro. Quindi, diciamo, lei non lo vede come una possibilità di, cioè, di utilizzarlo per spiegare un'intera, un'intera parte di programma, per esempio, l'antico Egitto, direttamente con uno strumento come questo? E io lo vedrei come avvio, poi, all'uso del manuale. Ok, quindi iniziare... Una visione un po' più tradizionalista, diciamo. No, no, ma non era... Sacro, sì, sacro tempo. Non era neanche, cioè, se solo per capire, non era per invogliarla, ci mancherebbe. D'altra parte, poi, come dire, vedere le parole, vederle scritte, secondo me, contribuisce molto all'arricchimento del lessico, ad esempio. Oppure, come dire, dovendo seguire la logica di un testo scritto, questo aiuta in qualche modo alla produzione anche poi del testo scritto o del testo orale. Sì, sì, diciamo che la parte scritta si vede anche in questo gioco, si vede anche in questo gioco, cioè, come vi ho detto, c'è la parte visiva, ma quello che viene detto a parole, diciamo, è anche riportato per iscritto, quindi, diciamo, anche perché una volta che la... il narratore smette di parlare, la cosa scritta rimane, quindi se uno vuole risentirla o rivederla, può benissimo rileggere o riguardarla, insomma. Comunque, da quello che abbiamo capito, la prima teoria è quella di utilizzarla più come supporto che come sostituzione. Ok? Giusto? Oppure potremmo parlare, scusi, con una specie di manuale che è il movimento, manuale animato. Certo, sì. Visto che poi in effetti si dice che c'è il testo che rimane. Sì, 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 sì. Potremmo pensarla anche così, in una specie di testo vivo. Per questo le chiedevo se era possibile sostituirlo al posto del libro stesso, però non è che era un'imposizione, era solo per sapere. No, capito. Qualcuno la pensa allo stesso modo, la pensa a un modo diverso? Ma io la trovo un'idea molto accattivante, però faccio riferimento alla scuola primaria. Certo. E credo che sarebbe anche un po' scioccante per gli alunni, perché ci avvicineremo al loro mondo, nel senso che sono molto fruitori del videogioco, ma il videogioco fino a se stesso. E dal punto di vista psicologico entreremo un po' nel loro mondo e cattureremo il loro interesse, perché un videogioco può anche essere istruttivo, se utilizzato in una modalità appunto differente. Come ha detto il collega, la utilizzerei anch'io come introduzione, introduzione allo studio di una civiltà, oppure successivamente come una ricerca per settori, come diceva lei, quindi qualcuno che approfondisce il discorso dell'imbalsamazione, piuttosto che qualcun altro approfondisce la lingua, eccetera. Sicuramente sono per un approccio integrato, quindi parto sempre con qualcosa di creativo, con qualcosa di concreto. E poi però c'è il rimando al libro di testo, la parte diciamo più formale, e c'è sempre. Certo, certo. Mi chiedevo se è un gioco free o un gioco a pagamento. No, questo poi ve lo dirò, però è un gioco a pagamento, però viene 8 euro a... cioè non è che costa chissà... Ovviamente non è che ve lo sto spingendo, ve lo sto solo dando la completezza delle informazioni. No, no, è l'uso poi concreto, grazie. Sì, sì, certo. Parlerò pure di questo, ovviamente. Sì, interessante anche questa cosa. Ovviamente quello che ho capito, ovviamente un testo di riferimento non deve mai mancare, ma soprattutto anche per dare la possibilità alla persona, che sia un bambino, che sia un ragazzo, diciamo così, di sapere dove andare a trovare le informazioni che cerca. Perché io posso anche andare a cercare la mummificazione, ma se non so dove andarla a trovare, non... cioè perché si chiama mummificazione, cosa vuole dire, non ha molto... molto... uno scopo poi di quello didattico, questo gioco, giustamente. Però magari, come abbiamo visto adesso con l'intervento ultimo, la possibilità di chiare dei piccoli gruppi e dargli la possibilità di andarsi ad informare su argomenti specifici, tipo la mummificazione, la scrittura, non può comportare una riduzione del tempo su quell'argomento invece che una dilatazione, come si diceva all'inizio? Perché poi alla fine saranno gli stessi gruppi e faranno una sorta di lezione agli altri. senza dover per forza dover andare a cercare l'argomento sul libro, alla fine. Certo, il libro ci sarà sempre accanto a tutti. Quando si assegnero le ricerche, sostanzialmente. Esatto, esatto. Però la ricerca un tempo almeno era fino a se stessa, cioè nel senso io la facevo a te, tu ti informavi bene. Adesso, giustamente, si cerca anche di portare la ricerca all'intera classe, quindi lo studente viene invogliato attraverso lo studio da alcune fonti fornite di arrivare al tuo risultato finale che poi può portare direttamente in classe per farlo fruire a tutti. Giusto? Questo supporto può essere uno strumento di lavoro per portare lo stesso risultato? vedo gente comunicazione pratica nel senso che personalmente sono aperta a nuove strade purché si riesca ad attivare il loro come dire l'interesse e un apprendimento attivo però finché siamo a distanza ho capito anche la logica delle stanze diverse l'ho già utilizzata anche con i ragazzi ma soprattutto con quelli più grandi devo dire che sono anche un po' più autonomi da questo punto di vista. mi vengono in mente un sacco di questionità tra virgolette risolvere appunto a partire dal prezzo dall'attrezzatura che ognuno ha anche i ragazzi BES DSA quant'altro che magari hanno cioè sono curiosi attivano anche loro nel processo del gioco quant'altro ma poi quando hanno bisogno di fissare le informazioni magari hanno bisogno di schemi di cose più tradizionali appunto più leggere insomma ho capito domande che vengono che vengono così a però alla fine lei mi parla di schemi che io capisco giustamente lo schema serve anche a raggruppare le informazioni utili da ricordare però magari appunto far vedere la mummificazione far vedere stasesso una mummia come veniva preparata già una sorta di fissazione di fissativo già una sorta di schema mentale perché quando parlo di mummificazione a quel punto la prima cosa che mi verrà in mente sarà l'immagine che avrò visto nel gioco ok oppure può essere anche io parlo di piramidi ma un conto è vederla piatta su un foglio un conto è vederla tridimensionale sullo schermo ok quindi comunque ci stanno modalità diverse di schematizzazione alla fine sono sempre schematizzazioni mentali quelli che poi noi andiamo a fornire ok comunque capisco benissimo la la perplessità poi per quanto riguarda dei supporti alla fine abbiamo visto che regge pure windows 7 quindi ormai stiamo parlando di computer di almeno 5-10 anni fa ok e comunque come abbiamo visto anche prima basta anche il computer un unico computer della scuola che può essere proiettato ok con la telecamera però giustamente non tutti hanno i computer è anche vero che adesso si cerca di 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 fornirli anche a chi non ce l'ha sicuramente sicuramente e non vogliono essere come dire ragioni a detrazione a come dire a squalifica della metodologia anzi erano questioni che se si risolvono in modo veloce in modo efficace anzi aumentano le possibilità ecco ok ok qualche altra osservazione no va bene a questo punto vi mostro quest'altra slide la vedete? no perché non l'ha condiviso? si la vediamo perfetta perfetta no aperto quello che non doveva essere aperto va bene non fa niente allora questo è il sito poi io vi darò queste slide questo è il sito diciamo di riferimento del del gioco di cui vi ho parlato ecco questo non ci interessa adesso vediamo questo perché è vero che un conto lo stiamo vedendo tutti questo questa pagina sì perfetto dico è vero che abbiamo parlato di gioco immersivo quindi è lo stesso utente bambino non che sia che muove il personaggio perché può sia seguire il percorso scelto sia girare liberamente all'interno della città ok però è anche vero che giustamente voi mi dite sì segue il percorso e tutto quanto a me come faccio a fissare a far fissare dei concetti al bambino o al ragazzo che li utilizza ecco questa è una proposta che fa sempre il lo sviluppatore ed è questa l'attività è una sorta di escape room ok quindi dove gli strumenti utilizzati sono questi che sono due strumenti digitali il discovery to rush and egypt è quello che vi volevo far vedere ma non ci siamo riusciti per problemi di pesantezza think link è lo strumento utilizzato che è questo qua che è lo strumento utilizzato per produrre questa tipologia di attività questi esercizi da dare a casa perché questo in realtà è pensato come un povero proprio compito a casa ok ovviamente in questo caso si rivolge alla secondaria di secondo grado ed è si tratta della possibilità di rendere una lezione interdisciplinare tra l'inglese e la storia e la storia dell'arte andiamo a vedere la scheda vera e propria che crea eccolo qua titolo ovviamente abbiamo detto che è tra inglese storia e storia dell'arte quindi sarà intitolato in inglese ma queste sono solo volontà ma si può anche fare in italiano l'area è linguistica espressiva le materie coinvolte le abbiamo citate addirittura la durata di due settimane perché magari dà la possibilità a più riprese di vedere i video inerenti ovviamente questa è un'attività che viene fatta solamente dopo che l'avatar cioè quindi l'utente è stato all'interno in questo caso della sfinge e ha fatto il percorso già programmato della sfinge ci siamo tutti? sì sì ok quindi che dice come prerequisiti tecnologico ovviamente aver installato il videogioco ok e sapere utilizzare gli strumenti di navigazione in internet software per la lazione di testi editing e immagini in realtà vuol dire solamente saper utilizzare internet e saper scrivere sulla tastiera perché poi vi faccio vedere a che cosa si riferisce questo gioco quello che si vuole andare a vedere nello studente è appunto il livello B1 di competenza di lingua inglese secondo il quadro comune europeo gli obiettivi formativi è quello di esplorare le piattaforme di gioco virtuale come vi dicevo cioè eseguire il percorso che è stato già preimpostato della sfinge e ricercare analizzare e sintetizzare informazioni in lingua straniera e lavorare in gruppo perché come andremo a vedere le informazioni per lo svolgimento del compito che verrà richiesto saranno fatte in inglese in questo caso ovviamente le competenze appunto la multilinguistica il digitale la consapevolezza le espressioni culturali le conoscenze questo è una è un refuso si vede perché in realtà stiamo parlando dell'Egitto il lessico specifico dell'inglese quindi anche questo la grammatica inglese e tutto quanto queste le metodologie didattiche che vengono prese in considerazione e poi la valutazione finale ok per scambi comunicativi uso della ghia di valutazione e tutto quanto ma noi torniamo al nostro esercizio eccolo qua questo è sono le immagini tratte dal 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 gioco che purtroppo non siamo riusciti a vedere insieme ok che quando vi dicevo di panoramica dall'alto dell'immagine eccola qua noi stiamo davanti alla sfige ok e tramite l'utilizzo di questo think link è stato impostato questo esercizio che cosa devo fare ovviamente le istruzioni saranno in inglese per le cose viste prima e io apro e mi spiega gioca a questo gioco ok segui la linea brillante che è quella che vi dicevo che fa capire quali sono dove si trovano le tappe del percorso all'utente ok per imparare qualcosa di più sulla sfinge ok e perché la nominate escape room la fa iniziare come stanza vedi escape room cliccando sul bottone a sinistra ovviamente questo vi voglio dire questa icona qua la vedete ok permette la possibilità anche di leggere direttamente far leggere direttamente al computer le istruzioni o comunque i testi ok quindi da una possibilità maggiore di coinvolgimento ok eccolo qua questa freccia mi sta dicendo di leggere le istruzioni ok quindi è tutto è tutto regolato quello che deve fare l'utente e poi eccolo qua è entrata nella sfinge andiamo io vado qua solamente per farlo vedere più grande ma se no uno può agire direttamente solamente all'interno del quadratino che abbiamo visto ok questo è l'avatar come avete visto vedete che ha molte cose che interagiscono con lui sia volontari che involontari ma in questo caso abbiamo degli animali ma se no anche delle persone della città quindi ecco qua già viene impostato a proposito come si diceva ovvero la fissazione dei concetti o gli argomenti trattati come se fosse una lezione quindi senza l'ausilio iniziale almeno del libro eccolo qua l'insegnante imposta delle domande alla quale lo studente una volta che ha seguito il percorso nel gioco quindi una volta che ha preso quello che è andato a vedere può rispondere e andare avanti nei suoi esercizi nei suoi compiti è questo qua ok che cosa si pensava sia la personificazione la il significato della sfinge ok e da quattro opzioni ovviamente adesso andremo avanti sapendo che tutti sanno che cosa voglia dire perché hanno tutti seguito il percorso del gioco giusto non so praticamente questa è l'immersione di cui vi parlavo vedete com'è l'avatar entra proprio all'interno delle strutture all'interno della città ok e va avanti vedi la feccia rossa fa capire che bisogna andare avanti ma come sempre con un esercizio sempre con un gioco che ha impostato all'insegnante ok e gli fa appunto è una fusa con che cosa la testa umana con un corpo di leone oh ecco qua qua mette le domande numerate però ti dice leggi le istruzioni sempre in inglese proprio per il concetto di multidisciplinarità in questo caso e ti dice che praticamente ci sono alcune lettere da prendere in considerazione a seconda delle domande che vengono date eccole qua tipo secondo questo posso che ho una domanda? certo se qualcuno sbaglia le domande succede qualcosa oppure no non va avanti ok finché non si trova la risposta esatta non si capisce esatto ok grazie prego ovviamente questa è un'impostazione data in questo esercizio poi uno può anche creare un qualcosa che gli faccia riuscire dalla sfinge a ricominciare però dipende appunto da come è stato impostato l'esercizio di per sé e quindi ecco uno risponde si dice salva la settima lettera del nome della domanda della risposta ok questa è la seconda domanda a seconda di quelle voi uno può mettere pure 50 domande dipende sempre da quello e poi si va e dice usa le lettere che hai salvato delle tre domande svolte per completare il nome del luogo quale e ti fa la domanda dove le statue della sfinge potevano essere costruite diciamo così in questo caso la risposta è dromos ok poi questo è sempre impostato dall'insegnante quindi poi ognuno può scrivere quello che vuole ok e vede che è andato avanti sempre all'interno della sfinge eccolo qua ennesima domanda in questo caso è questo ok quindi è solo per farvi vedere che appunto l'apprendimento può essere svolto perché poi una volta che lo studente è entrato in contatto con il gioco quindi ha sviluppato le sue capacità di immersione sia involontaria cioè girando liberamente per la città sia obbligata cioè seguendo uno dei percorsi stabiliti in questo caso quello della sfinge che sono più step non è che io dico entro nel percorso della sfinge e mi viene detto tutto all'interno dell'unico step quindi queste risposte che deve dare lo studente in questo esercizio che ha impostato l'insegnante magari è la domanda 1 corrisponde allo step 1 del percorso la domanda 2 lo step 7 ok costruita in quale pietra naturale limestone ok quindi siamo all'interno di questa struttura eccolo qua quale misura aveva ok in questo caso ovviamente sono tutte termini che non è che c'è bisogno tutte nozioni che non è che c'è bisogno che le va a vedere sul libro perché sono tutte trattate all'interno di questo gioco ok eccolo qua e qua ritorniamo alla stessa alla stessa tipologia di esercizio ok fatto precedentemente vedete eccolo qua salva la terza lettera seconda queste sono tutte domande impostate dal docente di conseguenza siete voi stessi che decidete su che cosa si deve vocalizzare lo studente ok eccolo qua e siamo alla stessa tipologia the impact of in questo caso time ok eccole qua vediamo quest'ultima in che parola per rossa ero usata come significato deserto ok guardate queste ricostruzioni che sono tutte cose adesso sono sparite ok eccolo qua come la grande sfinzia è chiamata oggi la terrificante chi non lo sapesse è qua volendo ci hanno aggiunto un gioco un gioco base da fare ok ma non che noi non andremo a fare in questo momento beh una volta visto questa tipologia cosa avete cambiato idea cosa ne pensate cosa se è ancora più fattibile ancora meno fattibile no beh io trovo che sia interessante per senz'altro diciamo far passare alcuni concetti consentire agli alunni di metabolizzare dei concetti anche in modo molto ludico quindi interessante però ho un piccolo dubbio nel senso che io sinceramente non me ne intendo più di tanto però mi è capitato qualsiasi cosa che io prenda poi a pagamento è difficile che io possa condividerla con altri no ma questa è fatta a forza per l'utilizzo nelle scuole appunto questa è stata creata apposta e quindi queste attività loro devono fare per forza lì cioè sul computer della scuola lì in presenza giusto se la scuola prende solamente diciamo una licenza sì se no se viene presa per tutti gli studenti di una classe per esempio la possono fare direttamente a casa oppure l'esercizio può essere impostato e svolto direttamente in classe come forma di verifica per vedere se lo studente ha capito o si è focalizzato su quello che gli ha fatto vedere magari la lezione precedente ho capito sì sì grazie grazie prego accanto osservazione io vorrei un'altra domanda prego questo tipo di attività può essere usato come momento valutativo anche e se sì come perché faccio fatica così a elaborarlo sul momento per valutativo che intende a questo punto nel senso cioè questa è un'attività di allora è la seconda parte di un'attività che prevedeva all'inizio l'immersione nel gioco giusto un'attività di consolidamento dei contenuti cioè deve essere è propedeutico poi a un momento di verifica diverso oppure può essere già in qualche modo valutato fate conto che sono è come se fossero se avete visto le varie domande è come se fossero degli esercizi che voi stesse delle domande che voi stesse poteste fare ad esempio ad una interrogazione per esempio quindi sì prego scusi non volevo interromperla dico nel senso se poi voi valutate come verifica o come valutazione finale un'interrogazione un test scritto o qualcosa di altro già questa vi fa vedere che può essere una modalità perché potete somministrarla ad un gruppo o a tutta la classe volendo non è che quell'esercizio che noi abbiamo visto potete creare mille e mille di esercizi e soprattutto mille e mille di 70 percorsi diversi ok quindi non è che parliamo solo della sfinge o della mummificazione ne stanno ben 70 di percorsi diversi proprio perché si è cercato di comprendere tutto ciò che poteva essere all'interno di un percorso di studi sull'antico Egitto ok poi è ovvio che uno sa che non può dire tutto ma deve dire solo alcune cose purtroppo per l'Egitto purtroppo non è una mia cosa però poi sta a voi magari dando anche l'indicazione di quali percorsi andare a vedere fagli capire qual è quello che volete che loro sappiano su quell'argomento ok perché poi le domande che voi andrete a dare nell'esercizio sono quelle su cui poi lui si deve focalizzare ok quindi se lui ha fatto il percorso però si è distratto perché è andato a fare un giro per la piana di Giza per vedere andando presso al gatto comunque poi la valutazione c'è sempre cioè non è che è un gioco to cure come abbiamo detto prima come avete detto voi è un gioco didattico ok quindi alla fine deve portare a dei risultati se no non è servito quindi la valutazione sta in quello che poi viene richiesto allo studente spero di aver risposto non so se ho risposto del tutto in linea concettuale direi di sì mi manca solo il pezzettino applicazione pratica per ognuno perché uno non può stargli ovviamente accorare 70 cose diverse per certo però è anche vero che se voi avete già diviso per gruppi ne potete fare uno per gruppo giusto e già quello è una valutazione ok oppure sarebbe interessante se il gruppo ha esposto agli altri fare la valutazione ad un gruppo sull'argomento dell'altro magari incrociato bello questo perché così non è che parla uno io non devo stare attento cioè di solito è quello che di solito viene applicato e quindi può essere ci stanno varie modalità come avete visto lei ne ha dato già parecchi ok grazie bello che ne pensate quindi Nuzzoli è rimasto della stessa idea dell'inizio no sono sto capendo di più diciamo sto capendo di più ecco sono più informato ecco sono più informato bene ok allora guardate vi do mentre pensate ad eventuali altre domande o di vi do 10 minuti di pausa e poi iniziamo diciamo con una lezione un pochino più inerente al percorso che dei 5 incontri va bene a dopo a dopo a dopo va bene va bene va bene ecco a dopo a dopo a dopo a dopo a dopo a dopo Grazie a tutti. 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 di passiamo. Grazie a tutti. Questo è quello che mi chiedevate prima sul costo. Si vede, giusto? Sì. Perfetto. Il costo è di 8 euro per l'utenza. I sostenitori di questa spesa, sia per i docenti che per gli studenti, devono essere scelti dal paese che vedrà se pagare una parte, il tutto a nessuno. Comunque, per qualsiasi cosa, io tanto poi queste slide ve le darò, dice che appunto il supporto tecnico per gli insegnanti è dato da EFTL Lombardia. Il commissario che si sta portando avanti il progetto è questo qua. Ok, quindi qualora fosse interessata o comunque la vostra scuola una volta, grazie a voi, fosse interessata, può rivolgersi direttamente a lui. Va bene? Ci siamo? Sì, sì. Perfetto. Allora. Eccoci qua. Ma quest'oggi parleremo, la settimana scorsa abbiamo parlato dell'antico Egitto, quest'oggi parliamo dei popoli del vicino e Medio Oriente, che spesso sono trattati in alcuni libri in modo un po' così, diciamo così, ecco. Per fargli un favore. Per chi non ci fosse stata la settimana scorsa, il tutto parte da questa frase che ricordo sempre, di un nuovo professore dell'università, che alle prime lezioni disse siete fortunati perché ora avete la possibilità di apprendere la storia direttamente dalle fonti. Questo perché prima si è sempre detto che il libro è la legge e quello che c'è scritto sul libro è scritto sul libro e va saputo. Invece, come poi abbiamo visto anche nelle indicazioni nazionali, sia per la primaria che sia per la secondaria e secondo grado, quello che viene preso in considerazione è sempre quello di far usare con mezzo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, diversi tipi di fonti, documenti storici e diverse teste interpretative, sempre inerente poi all'archeologia, all'epigrafia e alla paleografia. Ok? Quindi abbiamo raccontato, anche prima c'è stato un intervento la settimana scorsa sull'archeologia, è un po' difficile spiegarla, comunque sono tematiche da trattare separatamente, invece stiamo vedendo che attraverso l'uso dell'utilizzo delle fonti, della diversità delle fonti, si fa capire anche qual è il ruolo dell'archeologia all'interno dello studio della storia e come possono essere utilizzate per la sua didattica. Ok? Eccolo qua, vicino al Medio Oriente. Oh, i sumeri, chi mi sa dire qual è la prima cosa che si dice a proposito dei sumeri? Non è un'interrogazione, per chi non ci fosse, non metto voglia. Come? La terra, la mesopotamia. La mesopotamia. La mezzaluna fertile, perfetto. Dopo? Ovviamente dove collocare? La scrittura. Prima della scrittura, chi è che scrive? Io devo spiegare chi sono i sumeri. Ah, è una popolazione stanziata all'interno della mezzaluna fertile, detta Mesopotamia, in mezzo a due fiumi, perfetto. È la prima civiltà urbana? Come? È la prima civiltà urbana. Esatto. Per civiltà urbana che intende? Che è un regno generato... Organizzato in città-stato. Ah, ok. Ma le città-stato, la parola stessa, ci informa che non si può parlare di regno se si parla di città-stato, perché ogni città era uno stato, giusto? Sì. Quindi il regno non è possibile nominare i sumeri, avevano il regno dei sumeri, che sì, ogni tanto trovo in qualche testo. Ma di città-stato, che vuol dire città-stato? Organizzazioni urbane, quindi da un punto di vista strutturale urbano, con una forma di autogoverno e ovviamente un'organizzazione politica. Giusto. Diciamo che autogoverno in questa occasione forse è un po' troppo usarla, perché comunque se ogni città era uno stato non decideva di autogovernarsi, era lo stato in sé per sé. Ok? E infatti la prima cosa è il concetto di città-stato. Ma perché si dice che i sumeri erano divise in città-stato? Per questo motivo, eccoci qua. Quando la regalità scese dal cielo, la regalità fu a Eridu, ed è una città, eh? Fa abbandonata e la sua regalità fu portata a... Cioè vuol dire che da Eridu, una volta distrutta Eridu, prese il potere un'altra città. Quindi Kish fu distrutta e la monarchia fu assunto da Ana, che è un'altra città. Quindi Unug fu sconfitta e la regalità fu assunta da Urim. E come sono i nomi sumeri di Uruk e Ur. Fino, possiamo vedere qua, poi c'è la dinestra di Lagash, ok? Quindi c'è... Quindi Agade, diciamo parlando degli H di qua, fu sconfitta. La regalità fu assunta da Unug. E Unug fu sconfitta e la regalità fu assunta dai Tercere Gudei. Questa qua è la lista reale sumerica, che ci informa che ci sono undici città in cui la regalità fu esercitata. Ciò vuol dire che noi non stiamo parlando di undici città dalla quale proviene il re, ma undici città che hanno tenuto la regalità. Cioè vuol dire che contemporaneamente, o comunque in un periodo in cui, come abbiamo visto nell'antico Egitto, più città avevano un potere molto ampio, la regalità era tenuta. Di conseguenza ecco perché si parla di città-stato. Perché ogni città aveva un re che governava su un territorio, ok? E ce lo dice la lista reale sumerica. Non so se qua si è capito. È proprio una lista di città che hanno mantenuto la regalità. E quando hanno mantenuto la regalità, ok? Quindi non è che è una città-stato, il regno dei sumeri era diviso in città-stato. No. Perché le città erano stato in sé per sé, ok? Non si parla quasi mai in questo primo periodo di regno, ok? Poi se ne parlerà magari con la terza dinestra di Ur, se ne parlerà più avanti. Ma adesso proprio non è concepibile. Eccola qua, abbiamo detto. Kish, Uruk, Ridula prima, Ur, Lagash, ok? Questo erano... Secondo voi perché proprio qua e non qua si sono create le prime città-stato? Scusi, posso fare una domanda? Certo. Mi perdoni. Mi sembra di... Non so se interpreto correttamente, non sono una specialista di testi antichi, però mi sembra che una regalità escluda l'altra. Cioè io leggo, fu abbandonata e la sua regalità fu portata, fu assunta, fu assunta. Cioè è come se c'è un passaggio... Cioè non esistano più regalità contemporaneamente riconosciute, ma è come se ci fosse una transizione da una città all'altra nel momento in cui una città perde la regalità e viene trasferita ad altre. Questo qua, cioè questo che lei intende, è vero qualora la città di cui stiamo parlando sovrasta le altre città. Ma qua non lo sta dicendo, qua sta dicendo che la regalità passa da una all'altra solamente per il fatto che l'altra, cioè quella dove poi si trova la regalità, ha un territorio maggiore rispetto a quella precedente. Ok? Sì. Quindi non è che se stava da una parte non stava nell'altra, ok? Anche perché molte volte una torna sull'altra e non vuol dire che una sovrasta l'altra, perché in questo periodo tutte queste città hanno il ruolo re. Non è che Ur, ne metto una a caso, Ur ha la regalità perché ha conquistato Eridu che ce l'aveva prima. Vuol dire solamente che Ur ha una regalità dove il territorio di influenza è più vasto rispetto a quello di Eridu. Poi vedremo, per esempio, che ci fu una contesa a un certo punto tra Lagash e Umma, che è una città che si trova qua, per il territorio conteso, per il territorio che c'è tra le due città, o per questo? Perché ovviamente una regalità voleva sovrastare quell'altra e chi, quando qua dice passa da una, vuol dire che una acquisita un territorio più vasto dell'altro, ma non vuol dire che non c'erano due re. Ok? Ok, grazie. Eccolo qua quello che vi dicevo. Scusa, si potrebbe pensare a dire egemonia, una sorta di egemonia, o è solamente una questione di estensione territoriale. Sì, ma siccome stiamo parlando di territori molto, diciamo, rispetto ai grandi imperi o rispetto ai regni successivi del Vicino Oriente, sono molto esigui, secondo me è un po' eccessivo. Ecco, ecco, grazie. Dai, prego. Ok, quello che vi dicevo prima, il conflitto della Laga-Sceumma. Ma che cosa sappiamo di questo conflitto e perché lo conosciamo? Grazie alle nostre fonti che dicevamo prima. Eccola qua, la stile degli avvoltoi. Che cosa vedete qua? Chiunque, può rispondere chiunque. Soldati. Soldati, bene. Questi mi dice? O questo? Sì, sì. No, quelli dietro hanno un'armatura, penso, uno scudo, penso. Questi sono scudi con lance. Sì. E questo? Sembra qualcuno che guidi con una fusta, non so. Cioè, forse non vedo bene. No, no, comunque qualcuno che guida, giusto? Sembra sì che qualcuno guidi con un oggetto in mano. Giusto. È realizzato di Lagash. Ok. Eccola qua, Lagash. E il suo esercito. Eccolo qua, quello che vediamo. Questo chi è? Pronto? Pronto? Mi sentite? Sì, sì. Chi è? Mi sa che è un fiume. No, questo qua che sto indicando io. Sì, era un fiume. Perché dice questo? Non ci vedo male. No, non siamo. Non sembra che ci sia dell'acqua. No, no, no. Questo qua. È l'avversario politico, probabilmente. È l'altro. No, no, no. È sempre lo stesso. Vedete? Solo che qua si sta muovendo. Qua è armato. Vedete che ha le spade, le lance in alto? E qua? Sotto al carro. Questo è un uomo su un carro. Lo vede? Sì, si riesce a vedere. Ok. Vediamo se prima del quadrato si vede meglio. Lo vedete qua il carro? Sì. Ok. Con le frecce. Un uomo che guida il suo esercito in armi, che hanno tirato su le spade. Quelle che pensate quasi al fiume. Questa è la rappresentazione dei connellini di lana che venivano indossati, dei vestiti di lana. Che questi sono i segni delle ciocche della lana, non è la concezione di fiume che abbiamo. No, no. E quindi, come abbiamo visto, appunto, è la prima rappresentazione di un re che guida il suo esercito. Questa è la prima. Quindi ci sta a indicare sicuramente che questo è il re. Ok? E il testo che ci dice? Che il re Anatum, eccolo qua, di Lagash, partì con l'esercito ordinato in file per fonteggiare la città di Umma, che aveva conquistato parte di un territorio fertile che la città di Lagash considerava proprio. Vedete perché si muovono guerre? Perché era il territorio che serviva. Era il territorio che faceva la città grande. Ok? Non era l'influenza militare. Ok? Cosa che si vedrà più avanti. Cosa che si avrà, soprattutto, più avanti. Eccolo qua. Questo è un altro pezzo della stessa stella degli avvoltoi. Eccolo qua. Chi legge? Ok, il primo... Allora, lui. Perfetto, perfetto. Allora, è il sottrasse dalle mani di Umma per Ninghirsu e lo mise in mano di Eantum. Uruma, il principe di Umma, aveva assoldato uomo di tutte le terre e passò alle fosse di confini di Ninghirsu dicendo Ghedenne mio, lo sfrutterò io come legittimo acquisto. Allora Eantum ha sbaragliato Uruma, il principe di Umma, fino alle fosse di confini di Ninghirsu. Lo ha affrontato sulla riva del canale Luma Ghirnunta e lo ha coperto col suo mantello. Benissimo. Allora, prima cosa, tutte le G in questo periodo sono tutte dure. Quindi non è Gilgamesh, ma è Gilgamesh. Ninghirsu, Guedenna e le lettere si leggono tutte. Quindi è Ninghirsu, è Annatum e non è Annatum, è Annatum, ok? No, anche perché spesso col Gilgamesh si sente dire Gilgamesh non vuol dire nulla. Non è come in Egitto moderno che in arabo, se stai al nord si dice Gebel, se stai al sud si dice Gebel, si dice Gilgamesh, un po' ovunque. La stessa stelle ci informa che per acquisire un maggior potere Umma decide di prendersi un territorio di Lagash. Vedete, non è che Umma ha deciso di attaccare la città di Lagash, attenzione, non è che ha deciso di conquistare la città di Lagash, ma di espandere il proprio territorio. Ok? Ecco perché dicevamo prima che nel concetto di regalità. Che cosa vedete qua si vede pochissimo, mi dispiace un sacco. Qualcuno riesce a capire? La massa dice di persone. Perfetto, eccola qua. Sono persone sconfitte, disposte in modo disordinato uno sopra l'altro. La grida è gli avvoltoi, ecco perché si chiama serie degli avvoltoi. Qua riconoscete un aspetto magrabo, la testa con la spina dorsale del morto? Sì, sì. Qua addirittura l'avvoltoio tiene un braccio, non so se notate. Ok, eccoli qua. Oh, questo è il retro della stele. Giusto? Giusto? Cioè la figura è più grande del normale qua? Sì, sì. Decisamente. Ti rappresenta la figura più grande del normale? Eh, sarà un re. Vediamo. No, sembra avere una barba. Sì, le barbe, diciamo, nell'Egitto, vicino al Medio Oriente, vogliono dire la mente persona, persona importante. E qua vediamo alcuni uomini intrappolati in una rete. La scena rappresenta però un dio, questo è il dio Ningirsu, che tiene con la mano sinistra alcuni supersti dell'esercio di Umm, in una rete, e con la mano destra ne colpisce uno con la mazza, mentre tenta di uscire. Eccolo qua, lo vedete? Si vede, sì? Sì, sì. Eccolo qua. Ma la mazza, non vi ricorda qualcosa? Sì, come quella degli Egizi. Esatto. Quindi diciamo che era un'arma universale all'epoca, ok? Però, questo, abbiamo detto che è un dio, questo è un faraone. Che cosa vuole dire dell'antico Egitto? Che i faraoni erano assimilati, in qualche modo, a una certa... No, no, erano proprio divinità. Erano proprio divinità. Mentre qua. Vi ricorda qualcos'altro? Eh? Pronto, pronto? Vengono entrambi un sacco. No, qua, per quanto riguarda l'Egitto, con la mano sinistra vengono afferrati i capelli, non c'è un sacco, vengono afferrati i capelli dei nemici, ok? Mentre qua, comunque, c'è sempre un'azione che tende a prendere il possesso di nemici, comunque. Certo, certo. Però vedete come le cose si assomigliano molto nel territorio, quindi, diciamo, le dèi viaggiano, non sono compartimenti stagni l'uno con l'altro, ok? Eccolo qua. E' il dio Ningirsu e il re Anatum. Sentite, ma rispetto a questo, ok? Anzi, mettiamola più semplice. Rispetto a queste due, che sono due facce della stessa stele, ok? Il re e il dio sono uguali? No. Questo è il re, eh? No, no, non c'è un'identificazione divina nella figura del re. E come mai mi dice questo? Perché è il tipo di rappresentazione, no? Cioè, il re è più o meno proporzionato alle altre... Esatto, esatto. Esatto, esatto. Quindi qua vedete che, mentre nell'Antico Egitto il Faraone, essendo Dio, era rappresentato più grande rispetto agli altri, ricordiamoci che da questa parte c'era l'esercito del Faraone, guardate com'era basso rispetto al Faraone, ok? Mentre qua la divinità era più alta, era rappresentata più alta dello stesso re. Quindi io volevo dire, la lista reale c'è scritto, quando la regalità scese dal cielo, quindi era un dono di una divinità, non era qualcosa ottenuta per diritto divino, ok? Vedete le stelle cosa ci dicono? Ci fa capire non solo che la regalità era qualcosa donata dal Dio, ma che in questo contesto i re erano persone considerate della stessa stregua dell'esercito, ovviamente con un ruolo più importante, però sicuramente non erano al di sopra per volontà divina, perché erano divinità di se stesse, cosa che già abbiamo visto in Egitto è già l'opposto, ok? Ecco qua. Però mi scusi, posso una domanda, nel senso che comunque nella zona della Mesopotamia possiamo comunque parlare di teocrazia, o per meglio dire, forse magari non forte come in Egitto, certo, però il fatto che il sovrano abbia comunque un rapporto privilegiato con la divinità... Ma qua non stiamo dando una divisione tra teocrazia, erano entrambe teocrazie, però in una, ovvero quella egiziana, il faraone era il Dio stesso che metteva in atto le sue regole, perché erano divine, ok? Mentre per quanto riguarda per le città stato sumere, e c'era sempre una teocrazia dove a capo era stato messo un Dio che aveva dato la legalità, ovvero la possibilità di comandare sulla città, ad un uomo. Ok? Sì, grazie. Sono entrambe teocrazie, ma il fulcro non è la stessa persona. Ok? Diciamo così, il capo della teocrazia non è la stessa persona. In Egitto era un Dio, anche se era un uomo. Nelle città stato sumere era un uomo che aveva avuto la legalità da un Dio. Ok? Ok? Ho risposto? Sì, sì, grazie. Una fotossi con la testa per non disturbare ancora. No, ma le domande non disturbano mai, anzi, sono motivo di spunto. Perché la sua domanda potrebbe essere la domanda di un altro. Bene, in questo periodo il potere politico, quindi, era nelle mani della classe sacerdotale e del sovrano. Era considerato solo un amministratore al servizio del Dio cittadino. Proprio per questo motivo, i sacerdoti e i sovrani erano del stesso livello sociale. Ok? Chi è che mi sa dire come erano definiti i primi re romani? Rex e... Rex e... Rex e... Esatto. Cioè, avevano entrambi la funzione di re sacerdote. Ok? Quindi, diciamo che le evoluzioni, anche se in contesti diversi, non sempre sono così dissimili. Ok? Oh! Siamo arrivati finalmente alla famosa zikurat. Ok? Ma che cos'era veramente una zikurat? A cosa serviva? Soprattutto perché viene costruita una cosa così imponente? In molte delle città-stato hanno queste strutture. Proprio per questo. Allora, in cima si trovava il tempio con l'altare dedicato al Dio protettore della città. Quindi, ciò ci fa capire che quasi a questo punto se ne può parlare di scala sociale, cioè di piramide sociale, in primis c'era il Dio, che non vuol dire il re, vuol dire il Dio. Ok? Perché è il Dio che dà regalità, abbiamo detto, no? Poi, dalle terrazze, eccole qua, i sacerdoti osservavano il cielo e le stelle. I sumeri, infatti, furono i primi a riconoscere le costellazioni a calco la durata dell'anno e a dividere il giorno in ore. Ok? Quindi abbiamo visto che dopo il Dio ci stanno i sacerdoti, ok? Che abbiamo visto sono la stessa strega del re. Perché? Perché il re è colui che difende la città-stato, ok? Che abbiamo visto con l'esercito, ok? Ecco qua, la base della ziggurat era nei magazzini, dove venivano conservati i raccolti. Perché in una sorta che alla fine per gran parte è un tempio, praticamente, perché c'erano anche i magazzini? Domanda. Che io sappia perché, come direi, i veri proprietari del terreno erano gli dèi. I veri proprietari del terreno erano gli dèi. Non in questo caso, per il fatto che non stiamo parlando di un... Cioè, la struttura non è solamente un tempio. Se fosse stata solamente un tempio, allora aveva ragione. In questo caso, no, tanto che noi vedremo più avanti, è il re che si toglie una parte del terreno per dedicarlo alla divinità. E quindi a quel punto diventa divino. Diventa non più appartenente al sovrano, ok? Ricordiamo, per esempio, che nell'epoca della Roma imperiale, se uno voleva scampare da una condanna o da un'accusa, si nascondeva dentro un tempio. Perché era un luogo sacro, che non poteva essere importunato in nessun modo, ok? Come si dice, per esempio, nel Medioevo, che le armi non possono entrare in chiesa. Non so se avete mai sentito questa frase. Ok? È una cosa che non si sono inventati nel Medioevo, ok? È una cosa che noi ci portiamo avanti dai secoli. Quindi, perché c'erano i magazzini? Che cosa rappresentava la zigurat in realtà? Se io vi dico, mi dite che cos'è una zigurat, per favore? Come la spieghereste? La zigurat era? La rappresentazione del potere sovrano, che in questo caso calmirava anche le derrate, no? Benissimo, del potere sovrano, no della divinità. Del potere sovrano. Quindi, io sovrano ho immagazzinato le derrate della città. Che vuol dire che io sovrano ho immagazzinato le derrate della città? Cioè, perché facevo questo? Cioè, perché chi coltivava il campo doveva portarmi a me raccolto? Per la distribuzione poi tra la popolazione. Esatto, cioè, qua si capisce qual è il ruolo del sovrano. Il sovrano è colui che difende i confini ed è colui che distribuisce equamente la ricchezza della città. Ecco perché si parla di sovranità. Non è la sovranità dell'egiziana dove il Dio era là perché era Dio. ma era sovrano e quindi parliamo di città-stato perché difendeva i confini e amministrava la città con la distribuzione delle derrate alimentari. Ok? Ci siamo? E ce lo dicono le strutture, non è che ce lo dice altro. Ah, questa Ziggurat, adesso facendo una cura di... aprendo un attimo il discorso. A cosa assomiglia? La struttura, eh? Alla piramide a Gradoni? Allora, sì, ma in modo molto molto lato perché la piramide a Gradoni comunque era una tomba. Ok? Una fortezza, forse? No, perché di solito le fortezze in quest'epoca erano dell'unico piano proprio per poter essere difese maggiormente. Qualcosa, andate al di fuori del vicino Oriente. Dove la troviamo una struttura simile? America Latina. Eccola qua, America Latina. Eccola qua. Che cos'era la piramide Cigenizza? Un tempio dove i sacerdoti parlavano con la divinità o facevano le loro misurazioni astronomiche. Ok? Come vedete, non dico che tutto il mondo è paese, ma ci siamo quasi. Ok? E stiamo parlando... Guardate, eh? Qua siamo nel, diciamo, venticinquesimo secolo. Qua stiamo nel nono dodicesimo secolo. Poiché io non ho indicato se avanti o dopo Cristo è sempre dopo Cristo. Ok? Chiusiamo? Questa è una domanda un pochino più filosofica. Che... Visto che queste popolazioni non hanno chiaramente avuto contatti fra di loro, ciò significa che l'uomo nella sua evoluzione arriva più o meno sempre a sviluppare questa tipologia di arte, di interpretazione del mondo. Ma perché c'era una filosofia dietro? Chi me la sa dire? Cioè, tutte le popolazioni hanno avuto tutti, tutti, la stessa idea iniziale per costruire queste strutture. Qual era l'idea? Verso l'alto. Esatto. Ad esempio, noi sappiamo che nell'antico Egitto i faraoni, una volta morti, essendo essi stessi dì e dei, si andavano a aggiungere agli altri dèi. Però dovevano passare all'interno di una sorta di paradiso, che erano i cosiddetti campi di Yaru, dove dovevo coltivare e fare altro. Bene. Nell'epoca antica, nel periodo tinita, predinastico e dell'antico Regno, c'era l'idea che la divinità, che il faraone, una volta morto, tramite astro celeste, andava in cielo dagli altri dèi, dove era la sede degli altri dèi. Quindi per questo tutti tendevano verso l'alto. Solamente per questo motivo. Inoltre, nell'America Latina, l'altro motivo era anche che se io facevo una struttura bassa fino a qua, ricoperta completamente di vegetazione, come poteva avvicinarmi a vedere le stelle? Ok? Quindi diciamo che tutti sono partiti da un concetto comune. Poi che hanno realizzato strutture simili, secondo me è stata una conseguenza quasi casuale. Però il concetto iniziale comune l'ha portata ad avere valutazioni tecniche comuni. Ok? Sì, domanda. Ho sentito un microfono. No. No. Abbiamo detto quindi che i magazzini erano la sede delle latte alimentari dell'intera città, dove il faraone, sì il faraone scusate, il sovrano, non lo distribuiva alla città. Ok? Ma come faceva? Come distingueva a chi dare quanto, a chi dare poco, a chi dare tanto? Non c'era questa distinzione. Si fu la scoperta all'interno di queste strutture, di questi magazzini, di ciotol, ritrovate in grosse quantità, Aurok, per esempio, e poi in gran parte la Mesopotamia e Siria. Ecco le quali, vedete? Cosa notate? Sono molto simili tra di loro. Ricordiamo che non c'era la catena di montaggio, eh? Quindi dire simili, ricordiamo che sono fatte tutte a mano, tutta era fatta a mano, ok? Quindi gli avete fatto un complimento altissimo dicendo che erano simili. Eccola qua, singola, si vede meglio, si capisce meglio. Ma perché erano tutte uguali? Erano unità di misura? Esatto, la prima produzione di massa ed erano utilizzate per il pagamento dell'arte alimentare, era unità di misura. La produzione di massa ci fa capire che c'era un'unica persona che comandava, ok? Perché era lui che decideva un unico standard. Se ci fate caso, perché la monetazione nell'antica Grecia ogni città aveva la propria? perché ognuno seguiva le istruzioni della singola città, ok? Mentre in questo caso, poiché è stata trovata in, come abbiamo visto prima, in gran parte della Mesopotamia e della Siria, i sovrani hanno capito che la distribuzione equa in questo caso era quella che non comportava nessun tipo di scontento, in primo caso, e secondo era una decisione presa dall'alto. cioè solo chi aveva il comando poteva dare un informe, poteva prendere una decisione del genere. Ok? Eccole qua. Produzione di massa, quindi c'era un qualcuno che dettava delle regole e utilizzate per il pagamento di rato alimentare vuole dire che l'intera fatica della città era indirizzata ad un'unica persona che era il sovrano. Per che cosa? per il benessere collettivo. Ecco perché si fa sempre riferimento a città-stato perché era una città che come posso dire si funzionavano come un vero e proprio stato perché non c'era bisogno di un'altra città per avere un informe per avere il mangiare in quello contesto. non era una città che ne so tesseva tessuti mentre un'altra produceva cibo. Ok? Tutto in un'unica città e tutto distribuito equamente perché tutto doveva essere gestito per il benessere collettivo. Un'forma di autarchia quindi? L'autarchia nel senso che se lei intende per autarchia un unico sovrano cioè un'unica persona che prendeva decisioni sì sicuramente ma se lei la intende come la gestione di un'unica città e quindi la gestione di un'unica città su un ampio territorio con altre città no perché ognuna c'era la sua nel suo territorio. Volevo chiedere ma come veniva scelto il sovrano? Era la regalità che dava che dava ed era la divinità che dava la 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 regalità quindi in questo momento non c'era una questione di sangue era più una questione di di sacerdozio di erano i sacerdoti che regnando tra virgolette regnando ovviamente perché ognuno c'è una sfera sua all'interno della città nominava faceva in modo di nominare affinché quella persona venisse nominata sovrano ok? Grazie Allora la famosa scrittura qua c'è una diatriba da Egitto e e Sumeri ma lasciamo stare però vabbè eccola qua ma perché nasce la scrittura? Come nasce? Cioè chi è che ci dice che a un certo punto nasce questa scrittura? Eccolo qua il testo di Enmerkar che era re di Uruk del 2800 eccolo qua il messaggero aveva la lingua pesante non era capace di ripetere il messaggio poiché il messaggero aveva la lingua pesante non era capace di ripetere il messaggio il signore di Cullab impastò l'argilla e vi incise le parole come in una tavoletta prima nessuno aveva mai inciso parole nell'argilla ora quando il sole risplendette ciò fu manifesto le parole che il signore di Cullab aveva incise su una tavoletta divennero visibili il signore di Aratta dall'Araldo prese la tavoletta lavorata artisticamente il signore di Aratta scrutò la tavoletta la parola detta in forma di chiodo la sua struttura trafigge il signore di Aratta scruta la tavoletta lavorata artisticamente che ci dice questo testo? due cose fondamentali prego e diciamo c'è un'invenzione della scrittura quasi mitica è vero questo è un bravista uno inventa la scrittura e tutti sanno leggere è fantastico ok teniamo questo mitico e continuati però poi è interessante diciamo intanto la forma di chiodo la sua scrittura trafigge è vero come dire le parole hanno peso insomma vuol dire si inchiodano insomma e poi c'è anche questa secondo me una forma di commissione diciamo tra scrittura è arte ecco che è anche interessante certo la prima parte non lo si dice nella seconda parte poi si fa osservare che c'è una certa come dire dimensione anche estetica per così dire nella scrittura 2800 avanti Cristo esatto qualcuna altra osservazione? a me viene da dire una cosa mi sembrava di ricordare dagli studi di storia antica che le prime forme di scrittura avessero avuto come scopo quello appunto di registrare le derrame e ci arriveremo ci arriveremo qui sembra che la scrittura nasca per una come dire con una funzione politica cioè un ambasciatore questo che ha la lingua pesante se non ho capito male non riesce a ripetere il messaggio che il messaggio in realtà non ci dice bene che cosa sia può essere anche ho portato tre vasi pieni di orzo il testo non ce l'identifica bene che cosa doveva dire ok però quello che ci fa capire questo testo è che prima di loro prima del Redicool Lab non c'era nessuna forma scritta di scrittura ok ok quindi come si dice nel 2800 già diciamo i geoglifici egiziani c'erano per esempio ok però questo ci fa capire più che altro che era un'invenzione diretta del del re di Uruk ok anche perché come dicevate prima una persona ha fatto delle incisioni su un'argilla e guarda caso tutti la riuscivano a leggere questo che cosa fa capire che in realtà era una scrittura decisa per tutti cioè non era la scrittura del regno di Uruk della città di Uruk ma anche l'araldo che quindi veniva da una città di un'altra leggeva leggeva quella scrittura ok in più quando dice lavorata artisticamente ciò fa capire che in realtà non c'era ancora l'utilizzo dello scriba o l'utilizzo di una persona dotta che sapesse scrivere ma era considerata un'arte come se io adesso facessi desse due pennellate su una tela verrebbe vista come una forma d'arte non come una forma pratica utilizzabile per scopi pratici ok si siamo? no sì sì grazie perché dice sì eh prima fase della scrittura abbiamo detto appunto come si stava dicendo una scrittura pittografica cioè si comincia tracciando sulla tavoletta l'immagine di quello che si vuole rappresentare ok in questo caso eccola qua una spiga d'orzo mi vuole rappresentare una spiga d'orzo qua un uccello mi vuole rappresentare un uccello mentre qua un pezzo di pane una forma di pane mi vuole rappresentare del pane ok questi sono invece i contenitori quelli che vedete qua ok o qua ovvero le modalità con le quali si misurava ma come si poteva misurare il pane nella stessa stregua dell'orzo nella stessa stregua dell'uccello perché perché abbiamo detto che com'era questa era una produzione singola o di massa quindi tutti riconoscevano quella forma capito tutti la riconoscevano e tutti sapevano che la dimensione era quella ok ecco perché viene ripresa poi più la facevi grande più stava ad indicare una quantità maggiore ovviamente però come si vede si allarga quello che già si conosceva eccolo qua vedete eccolo era sempre si rifà sempre riferimento a questo oh prima scrittura a confronto eccole qua questa era l'indicazione del materiale conservato e della quantità abbiamo detto giusto? queste che sono invece? chi lo sa? sembrano stilizzazioni di che cosa? eh ok chi mi sa dire qualcosa? una pecora? un animale io intendo questa proprio questa qua questa cosa qua che cosa sono? quella è una pecora mi sembra la prima in alto e quella sotto sembra una palma perfetto c'è la semina no ci sono delle pratiche agricole la raccolta la semina ok scusate mi sono espresso scusate scusate mi sono espresso male non vi sto chiedendo qual è l'interpretazione grafica di quello che vedete io ho chiesto esattamente questo qua che cos'è? cioè questo questa cosa qua questo rettangolo qua che cos'è? una tavoletta? no no perché è molto piccolo a me sembra di metallo no sembra scusi? sembra di metallo no sono di avorio ok ok allora queste sono dette etichette o placchette in avorio e sono state trovate e sono state trovate da Bido nella tomba Ugei ed è una tomba di un faraone diciamo diciamo sovrano perché faraone in quest'epoca forse un po' presto però va bene anche sovrano faraone della dinastia 0 cioè la dinastia prima della dinastia 1 dove c'era il cosiddetto re scorpione attenzione però il re scorpione che noi abbiamo visto nella lezione precedente era già della fase predinastica ok quindi questo è il re scorpione 1 quello là e invece era il re scorpione 2 perché come come sappiamo i nomi si ripetono se non abbiamo adesso un una regalità diciamo così tipo Elisabetta seconda Elisabetta seconda non è Elisabetta prima i papi hanno lo stesso nome ma vari vari numeri dopo ok beh ma che cosa servivano queste placchette secondo voi e magari sigillavano un carico sigillavano un messaggio in effetti qui sembra che ci sia un foro legare esatto esatto non sigillavano proprio era una indicazione di derral di vasi ok erano grandi vasi dove al collo del vaso era legato un laccio con questa etichetta passante ok allora vi dico subito che quello che voi avete identificato come pecore era in realtà un elefante vedete la proboscide vedete il grande orecchio ok lo so era stilizzato per tutti sopra delle montagne ok questa in realtà invece di una palma è una gru è un uccello gru ok beh stanno ad indicare delle città e vorrevo sottolineare che come potete vedere anche dalla differenza queste sono sumeriche queste sono egiziane ok queste erano le etichette che come si dice erano presso i vasi che erano presenti all'interno della tomba Ugei come vi dicevo prima e infatti questo è abito e questa è la città di Bubasti ok ma che ci dicono e sono entrambe senza tralasciando la diatriba che c'era tra chi ha sventato per prima la scrittura tra sumeri egiziani erano questi sumeri e questi della civiltà sumerica e questa della civiltà egiziana ma perché noi abbiamo come prima attestazioni proprio queste secondo voi forse perché è legata alle attività economiche giusto quindi commercio e similia cose così ok secondo voi perché qua non ho l'indicazione della città forse era un'unità di misura tra virgolizio universale cioè che era condivisa con altre città sì ma diciamo di sì perché abbiamo detto che questa appunto unità di misura era condivisa ma perché non c'era scritto che ne so adesso dico 120 pani provenienti da ur c'è scritto solo 120 pani è perché tutti i prodotti venivano consegnati al al ai magazzini cittadini c'era quindi una ridistribuzione quindi quindi questi prodotti dove erano stati prodotti l'occhio eccolo qua sì ma calco delle entrate alimentari interne mentre queste sono città fuori dalla capitale all'epoca egiziana e quindi esterne quindi cosa ci vuole dire le prime attestazioni che noi abbiamo preso in considerazione due cose una è che il la forma di la scrittura nasce per poter stimare e calcolare ciò che produco ok ma perché secondo voi io ho bisogno di sapere stimare calcolare ciò che produco internamente per organizzare il commercio esatto se non so quanto ho di surplus il famoso termine surplus scritto in tutti i libri non so neanche quanto posso commerciare ecco che ci fa capire come la scrittura nasce per una questione prettamente economica senza senza l'economia ognuno si coltivava quello che produceva e mangiava quello che coltivava e non ci sarebbe stato minimamente bisogno del commercio perché tanto alla fine la sussistenza è quella che fa che fa sopravvivere invece poiché adesso la il dominio la sovranità di una persona unica posso dedicarmi e ho la capacità di distribuire a tutti la stessa quantità quindi ovvero tutti posso sopravvivere più mi espando più posso prendere anche terrate alimentari e non quindi anche tessuti vino qualsiasi altro prodotto viene il prodotto in altre città quindi la scrittura diciamo che è fondamentale per farci capire anche il contesto di regno per farsi capire il contesto di di espansione per farci capire perché è nata soprattutto ok eccole qua quelle che dicevamo prima ci sono fasi successive della scrittura non è che nasce subito la scrittura come noi la vediamo ma subito un'evoluzione di secoli qua lo vediamo no dal 3100 al 700 a.C. ciò che prima era il simbolo di una stella abbiamo detto che si rappresentava ciò che si vedeva quindi l'uomo l'uccello il grano mentre poi comincia a stilizzarsi sempre più eccolo qua passando la pittografica a una scrittura più complessa adesso vediamo allora seguite gentilmente il video che poi vi faccio una domanda prima del 3000 a.C. i sumeri inventarono un sistema di scrittura detto cuneiforme con segni a forma di cuneo la forma dei segni dipende dallo strumento e dal materiale su cui vengono incisi gli scrivi sumeri usavano infatti uno stilo di canna tagliato a becco che imprimeva sulle tavolette d'argilla segni che sembravano cunei la forma più antica della scrittura sumera è quella pittografica il segno raffigura l'oggetto come in questa tavoletta ritrovata a Uruk in Iraq e risalente al quarto millennio a.C. la mano indica il proprietario abbiamo poi raffigurati alcune attrezze agricoli un sacco di ozzo e le piante lo vedete qua che è sempre rappresentata la quantità sopra lo vedete? sì sì si più avanti nella seconda metà del terzo millennio la scrittura divenne gradualmente ideografica i segni erano cioè una rappresentazione stilizzata di oggetti e concetti astratti come in questo esempio si tratta di un disegno molto stilizzato cioè ridotto ai caratteri essenziali che rappresenta una figura umana e una ciotola l'idea raffigurata è quella dell'azione del mangiare con il tempo l'immagine diventa ancora più stilizzata assumendo intorno a 700 a.C. questa forma il segno stilizzato non rappresentava soltanto l'azione del mangiare ma anche la sillaba Q quindi in una fase successiva la scrittura ideografica divenne anche fonetica vale a dire che il segno stilizzato poteva indicare anche il suono di una sillaba così combinando più segni si potevano ottenere le parole come nell'esempio al segno che indicava terra venne associato il suono sillabico chi a quello usato per acqua il suono a sfruttando la combinazione dei segni si potevano formare nuove parole per esempio l'associazione chi a esprimeva il significato di riva costa alla lettera la terra bagnata dall'acqua bene secondo voi che com'era questo video cioè utilizzabile sì ben fatto semplice immediato e poi per la primaria che diciamo per altri per altre tecnologie sì sì abbastanza è vero lineare semplice non 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 gira troppo intorno alle cose le fa vedere per andare bene certo se io vi chiedo se io bambino della primaria vi chiedo adatto anche per la secondaria certo sicuramente infatti ha molte tipologie stavo leggendo un commento dico se io bambino della primaria vi chiedo scusa ma come scrivevano e come voi me l'avevi fatto vedere il video io vi faccio questa domanda scusi maestra ma come scrivevano e che cos'è un cuneo soprattutto il video non mi ha anzi io già da bambino comincio a pensare ai cunei quanti ne avrò visti in tutta la mia vita da bambino infatti vi ricordate che vi feci vi presi il testo che indicava chiodo non cuneo ok cuneo è venuta poi chi ha studiato e ha scritto cuneiforme ma non è che loro si definivano scrittura cuneiforme ok oppure vi devo far vedere ma che cos'è uno stilo che cos'è che manca in questo video secondo voi la spiegazione pratica di come veniva utilizzata la tra virgolette tavoletta d'argilla e la penna con la punta a cuneo per non cingere e soprattutto io che tavolette ho visto in questo video sono già cotte diciamo così ecco è chiaro loro la usavano cruda come dire ma in effetti ecco per la primaria specialmente è un esercizio bellissimo secondo me non gli fai costruire senza tagliarsi le dita chiaramente e quel cuneo con una canna insomma un pezzo di legno usa una plastilina o l'argilla e possono scrivere effettivamente diciamo puoi far copiare una tavoletta insomma si può possono fare tanti di quegli esercizi però non è bellissimi ecco la secondaria è chiaro te li perdi perché altrimenti per chi ci hai preso penso che poi fanno tutto tranne creare una 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 tavoletta una secondaria però va bene sì con l'acqua soprattutto le meglio cose si fanno capisco capisco ecco quindi vedete che anche i video in realtà non sono del tutto esplicativi o quando vengono utilizzati non stanno a così come sono anche come anche come forma riassuntiva di un qualcosa detto a lezione spesso hanno delle mancanze o magari hanno bisogno di essere cioè un unico video non basta ne serve più di uno magari ok una domanda vi faccio anche ma che vuol dire che io ho visto solo tavolette cotte in questo video perché l'argilla va cotta le impasti diciamo l'argilla va cotta quando? una volta che tutto è inzato vero una volta che hai definito quando l'informazione che è stata assegnata deve per forza restare altrimenti se non serviva gli dava una passata d'acqua e poi la riciclavo esatto quindi in realtà che cos'è che ha cotto quelle tavolette? cioè in realtà quando venivano messe negli archivi erano solo secche non erano cotte che cos'è che ha cotte? oltre nel senso di solidificate non mi veniva solidificate se le rimmergevo in acqua quelle potevano essere utilizzate pure se secche forse sì no no sicuramente non lo so metta un pezzo un pezzo di argilla non cotto dentro l'acqua dopo un mese vede che la puoi utilizzare quando vuole no no per dirle nel senso che la cotta cioè quando io entro dentro un museo e non vedo la tavoletta morbida dico perché? io ho studiato che la gente si incideva io non posso con uno stilo quindi non con cartello e scalpello eh con uno stilo di legno quindi perché io entro in un museo e non la trovo invece questo serve soprattutto come trampolino per dire che grazie al fatto che si è cotta io la posso avere in questo momento la posso toccare è arrivata fino a noi ok? è come se è cotta risolto tramite incendi quindi le distruzioni delle città ci hanno portato a noi a capire a sapere come viveva quella città se no noi non l'avremmo mai saputo non l'avremmo cioè se noi non avessimo avuto vuol dire che non era voluto che la cosa rimanesse nel tempo era voluto per è come è come quando lei scrive un diario ok? lei questo diario lo vorrà leggere tra vent'anni? forse sì ok perfetto se io un anno dopo cioè lei lo vuole leggere dopo vent'anni giusto? ok lei magari l'ha scritta al computer ok e lo salva dentro una cartella ok a lei gli viene un virus e gli si cancelli la stessa cosa io lo conservo perché mi serve vuol dire io so che il 28 giugno del 2490 ad Uruk c'erano 500 mine di pane io che ne so se l'anno dopo ho sempre 500.000 di pane se non un anno dopo vado a controllare Uruk nel 20 giugno del 1490 ha 300.000 di pane oh mio dio che è successo fammi controllare un anno fa quante ce ne avevo che cosa è cambiato che cosa posso fare per migliorare ecco a cosa serve io avevo 500.000 di pane un anno fa e avevo 28.000 persone da sfamare adesso ne ho 350 o meno persone da sfamare quindi c'era la voglia di conservare ma per una utilità pratica ok e quindi proprio perché abbiamo detto che non è tutto così esplicativo eccoci qua vedete vedete sì sì si viene ok adesso facciamo passare la pubblicità oh oh Che cosa fa capire questo video? Come venivano scritte, effettivamente, le tavolette. Che cos'è uno stilo, soprattutto? Che vuol dire cuneo, inteso per quanto riguarda la scrittura? E soprattutto che cosa fa vedere? Eccolo, guardate come è diversa la campitura. E soprattutto che cosa ci fa vedere questo video? Primo è praticamente il video finale del video precedente, cioè proprio senza di quella quasi perde il video precedente, ok? E secondo me è una cosa importante che ci fa vedere. Appunto che abbiamo detto... La scrittura forse? Come? Il senso, la direzione della scrittura. Anche, anche, soprattutto quello. Ma anche perché appunto come dicevamo prima, non erano cotte queste argilla. L'argilla che utilizzava questa persona era una argilla morbida. Cioè, non avevano bisogno di tanta difficoltà. In più, rispetto alle tavolette che abbiamo visto nel video, questa com'era? Uguale? Era? Era tonda. Sì. Questo ci fa capire che c'erano... Come noi abbiamo il foglio A4, il foglio A3 e il foglio A5, loro avevano diverse tipologie di supporto, ok? E queste si chiamano, questo termine tecnico, erano le tavolette lenticolari, a forma di lenticchia, ok? Quindi, diciamo che... In più, vedete come era facile alla fine scrivere? Avete visto questa persona? Era molto veloce. Come? Era molto veloce. Vero? Perché... Una volta che... Una volta che... Noi, avete visto all'inizio il primo video che dice Q, chi A vuol dire costa? Noi come facciamo a sapere che Q era terra e A era ma... Perché in realtà negli archivi, nei famosi archivi dove si trovano tutte queste tavolette, sono state trovate proprio i glossari e i vocabolari tra Sumero di Uruk e Accadigo, per esempio. Oppure... Noi, traducendone una, abbiamo capito come tradurre anche le altre. Ok? Quindi, diciamo che... Come si dice? Perché noi sappiamo tradurre una lingua? Alla fine, noi abbiamo visto... Sopra quella stela abbiamo visto tanti piccoli cunei, eh? Non è che abbiamo visto una lingua. Abbiamo visto una scrittura. Abbiamo visto una lingua. Anche la distinzione tra scrittura e lingua, per esempio, è molto importante da distinguere. Perché, come poi succederà anche nell'antichità, il greco verrà scritto da tutti, e verrà capito da tutti, ma è detto che verrà parlato da tutti. Ok? Quindi c'erano delle lingue ufficiali internazionali, già all'epoca. Ok? Ricordiamo, per esempio, il Sumero, diciamo così, Sì, sempre il Sumero, che viene utilizzato anche per scrivere lettere agli egiziani. Poi le vedremo, comunque. Cioè, c'erano delle lingue internazionali. Il Sumero, l'Accadico, in realtà, lo è stato, come lo sarà poi il greco. Cioè, quando i greci arrivano in Egitto, la burocrazia sarà tutta greca. Anche se gli egiziani, in quel periodo, inventano una nuova lingua geoglifica, per dirsi che è il demotico. Ok? Bene, a questo punto, io faccio vedere proprio 10 secondi di quest'altro video, che fa capire la parte base, cioè, dopo da cosa tutto nasce. Ok? Dall'argilla. Cioè, che cos'è questa... Non è che... Cioè, non è che si andava dal supermercato e si prendeva la tavoletta già pronta. Semplicemente fare dei segni di calcolo ha portato l'uomo ad imprimere sull'argilla, un terreno morbido che si trova vicino ai fiumi, ad imprimere dei segni che con il tempo sono diventati scrittura. In questo caso, parliamo di scrittura cuneiforme, perché attraverso uno stilo, cioè un legnetto, un'incisione all'estremità, si potevano fare dei segni semplicissimi e velocissimi che potevano aiutare a ricordare. Finalmente, tutti i segni possono essere ricordati e impressi sull'argilla. Ecco quindi che nasce la scrittura. Ok? Anche perché per capire se no, ste tavolette come nascono. Cioè, se non si sa che cosa è l'argilla, dove viene, come viene modellata, poi vi siete resi conto che indipendentemente dalla forma erano tanto grandi o tanto piccole queste tavolette? Mi sembrano abbastanza piccole. Perché? No, le tieni in mano. Dovevano stare sulla mano. Il secondo video ci ha fatto vedere che doveva essere girata e rigirata per fare cunei. Sì. Ok? Cioè, quella è l'archeologia sperimentale. Ecco, quando si parla di archeologia non è solo quella che si fa scavare Indiana Jones col fustino, che si toglie terra, ma c'è anche la famosa archeologia sperimentale. Figuratevi che noi all'università ci dicevano, ricordatevi che già ieri è archeologia. Quindi non è che dobbiamo andare chissà dove o spiegarla chissà in che maniera. La spiegazione iniziale che si dà di solito per l'archeologia è vedere gli strati dei vestiti che si mettono sopra la sedia. Già quella ti fa capire già ieri che cosa hai fatto, l'altro ieri che cosa hai fatto, e tre giorni prima che cosa hai fatto. E quindi già quella è archeologia. Ok? Non c'è bisogno di fare lezioni tematiche, soprattutto per la primaria, far vedere la divisione in strati della stanza. Ok? Già fa capire qual è il ruolo poi dello studio dell'archeologia. Ok? Bene, andiamo avanti. Ok, abbiamo parlato appunto degli archivi, questo è un archivio in particolare, sui decreti reali, ci sta appunto l'allevamento di bestiame, la registrazione degli ovini, ci sta un po' di tutto dentro gli archivi. Però soprattutto abbiamo visto bestiame, ovini, beni metalli preziosi, prodotti tessi, terreni agricoli, insomma, c'era tutto ciò che comprendeva l'amministrazione, compresi, come vi dicevo, i lessicali sumerici che ci hanno insegnato a noi studiosi, diciamo, come si leggevano i cunei che abbiamo visto fino adesso. Ok? E questo ve lo faccio solo perché siete voi, questo video. E questo video, questo video, anche se vedrete un Alberto Angela in grande spolvero perché si parla di circa dieci anni fa, ok? Fa vedere anche, vi ricordate all'inizio che ho parlato di fonti, archeologia, palografie, epigrafia, vi fa vedere anche quali sono i processi dello studioso, ok? Non è solo smuovere la terra e trovare l'oggetto, è molto interessante, questo poi ne parliamo. Adesso ve lo metto. Chi sapeva scrivere e leggere era solo una piccola elite, quella degli iscriviti. Il resto della popolazione era totalmente analfabetica. Ora apriremo questa busta di terracotta, ma che cosa ci sarà dentro? Il più delle volte... Scusate, avete sentito che ha detto che termine ha usato? Busta. Eh, e perché busta? Perché busta? Perché conciene qualcosa. Contiene una lettera, ma noi mandiamo la busta così, ma andiamo? E non sarà stata spedita? Sigillata. Sigillata e... Non è un po' o no. No, sigillata e scotta. Vedete che è stata cotta? Quindi ci arriva da noi, che ha fatto che è stata cotta. Ed era intatta, una lettera intatta. Sì. Sigillata. Le tavolette contengono in realtà delle liste di oggetti, di mercanzia da spedire o da pagare, degli inventari di magazzino, e questo perché la scrittura inizialmente è stata inventata fondamentalmente per il commercio e la contabilità. E che questa busta contenga qualcosa legato al commercio e lo entriamo proprio da quello che è inciso sopra. Ci sono le firme di due scrivi dell'amministrazione reale che in un certo senso hanno garantito, un po' come fanno ancora oggi i nostri notai, la validità di un'operazione finanziaria. E ora assisteremo finalmente all'apertura di questa busta e alla lettura del suo contenuto. Per questo il Centro Studi Ricerche Liga V ha richiesto la collaborazione di due grandi esperti nel proprio settore il professor Pettinato che insegna assiriologia all'Università di Roma alla Sapienza e il professor Formica restauratore che fisicamente aprirà questa busta. Bene, professor Formica come aprirà fisicamente questa busta? Interverremo lavorando con dei bisturi con delle molette diamantate per ottenere un taglio di estrema precisione. Quanto tempo impiegherà per aprire questa busta che tra l'altro è un caso rarissimo addirittura dei sigilli reali all'incirca non meno di due ore. Vedete l'interdisciplinarità dell'archeologia? Vedete come non non è un lavoro che si può fare è un lavoro scientifico non è un lavoro molti dicono ho fatto lettere perché voglio fare archeologia però non è detto che chi fa lo scientifico non possa fare l'archeologia non è che uno deve sapere la mitologia greca e romana per fare l'archeologia non solo ma fa capire come ormai ad oggi sono tutte professioni interdisciplinari materie interdisciplinari senza il restauratore che apriva la scatoletta la busta nessuno avrebbe mai letto quello che ce l'ha scritto ok? Poi adesso io vi manderò avanti perché fa vedere tutta la difficoltà che trova il restauratore perché fa un'incisione tutta intorno per aprire una sorta di lembo di questa busta per poi entrare all'interno e prendere la tavoletta che non so se si vede se si capisce è veramente una tavoletta grossa così ok? cioè era come un pizzino dell'epoca però in realtà era una una lettra vera e propria ok? adesso vi mando avanti allora la lasciamo a questo lavoro e buona fortuna grazie ecco professore io la ringrazio per questa finestra che ci ha aperto sul passato tra l'altro questo formica abbiamo visto che si è completamente ricoperto di polvere antica è un viaggio nel tempo che abbiamo cominciato in questo momento e che proseguiamo con il professor Pettinato che ora ci leggerà il contenuto di questa tavoletta davvero emozionante a tenere qualcosa nuovamente in mano dopo forse 40 secoli innanzitutto comincio con la menzione delle 30 mine che ha ricevuto allo Stato il Palazzo Reale 30 mine sono cosa dei lingotti delle sbarre ogni lingotto era orientativamente 600 grammi quindi mezzo chilo mezzo chilo però la cosa più interessante di questa tavoletta è che dopo viene specificata nella riga successive le varie quantità di argento che davano i governatori che stavano sotto la dominazione di Babilonia i due scrivi che nella busta facevano praticamente da testimoni sono qui i riceventi per conto dello Stato ed è per questo che i due sigilli di loro sono stampigliati su tutta la busta riassumendo questa tavoletta testimonia praticamente delle tasse pagate dai governatori di varie città al re si può dare una data precisa è citato un re l'anno di regno di Samsoiluna il figlio non c'è scritto figlio di Amorabi ma lo sappiamo noi per il uso della storia era il secondo sovrano della dinastia di Babilonia ok che mi dite di questo video è stato un po' emozionante si è affascinante perché tu vedi veramente l'oggetto di solito quando lo vedi fotografato così non capisci mai quanto sono grandi uno ti immagina quanto è una mattonella data da pavimento in realtà sono oggetti molto molto maneggevoli ecco una cosa io non ho capito quella che loro hanno chiamato busta di che materiale era fatta mi sembrava un contenitore sempre di terra argilla certo e poi come dire un guscio chiuso esatto quello non mi rendevole anche perché doveva essere aperto se io rompevo la busta dentro non sentivo la tavoletta dentro poi come facevo a capire cosa mi avevano spedito sì sì doveva essere qualcosa di troppo duro per non capire sempre argilla era solo che una volta cotta è durissima sì sì quindi loro facevano questo contenitore la tavoletta cotta poi il contenitore cuocevano di nuovo c'era anche un procedimento grazie esatto 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 perché comunque come avete visto la busta doveva avere dei garanti che erano coloro che dovevano ricevere la il denaro insomma le mine che diceva il grande perso è pettinato che purtroppo non c'è più e sappia non so se avete notato come una busta appena aperta quindi mai studiata lui l'ha tradotta in 0,5 secondi insomma sì quello era affascinantissimo insomma c'è anche il libro che stai inventando praticamente è lui che ha portato lo studio della filologia orientale in Italia quindi figuriamoci prende e legge ecco prende e legge come vi dicevo appunto i due sigilli di chi doveva ricevere le mine era presente perché serviva comunque un garante quindi che cosa voleva dire comunque non è che il sovrano riceveva lettere da chiunque ok e soprattutto la garanzia una cosa un concetto che arriverà fino a noi praticamente perché le monete romane per esempio che avevano sopra nella parte nel verso delle monete la testa del imp dell'imperatore perché era il più importante lei sa maestà se uno tarocca insomma certo certo ma perché c'è proprio la figura della testa dell'imperatore perché era l'uomo più importante e poi dava anche l'indicazione temporale in qualche modo ok questo per noi però dico Adriano quando ha battuto cassa gli hanno messo la sua testa sopra la moneta era perché era la persona più importante perché c'era la testa dell'imperatore sopra rappresentava lo stato l'imperatore perché ho scelto l'imperatore e non che ne so il terzo figlio dell'imperatore o si conoscere per diffondere la sua immagine sì sì questo in parte però in parte c'erano già le rappresentazioni di altro tipo che perché veniva scelto proprio l'imperatore chi è che batteva cassa durante l'impero non le città eh chi è che dava l'ordine di battere cassa durante l'impero di battere moneta scusate se non è l'imperatore chi altro l'imperatore giusto ok nella nella moneta quante quanto quanto oro c'era dentro fungeva da garante fungeva da garante l'imperatore era stampigliato perché era il garante durante le inflazioni dove la moneta valeva tot ma c'era la metà del dell'oro dentro l'imperatore faceva da garante che chiunque usasse quella moneta doveva comunque valere come il doppio dell'oro che c'era veramente ok quindi i sigilli a cosa servivano a fare da garante che sono nella nostra firma ad oggi sul sulle sulle lettere sulle sulle ricette su su tutto noi firmiamo perché perché facciamo da garante e cosa fa il garante quando quando fa scusate la commissione quando mette un plico dentro alla busta firma la busta firma l'apertura il verbale a scuola viene firmato perché può dirlo chiunque quello che se lo ha detto però c'è un garante che a domanda risponde su quello che è accaduto l'imperatore era uguale i sigilli erano uguali la scrittura alla fine è servita pure a questo ok benissimo ok oh passiamo ai famosi hd o hd però io preferisco hd poi perché sargon di hd per questo preferisco hd no sargon di hd ok il primo eccolo qua reggo io sargon re di h sovrintendente di ishtar re di kish sacerdote consacrato di anu re della regione grande vicario di ellin di ellin soggiocò uruk ne distrusse le mura nella battaglia con gli abitanti di uruk fu vittorioso lugalzaghesi re di uruk catturò in battaglia lo pose in ceppi in anzi alla porta di ellin sargon re di akkad nella battaglia con gli abitanti di ur fu vittorioso ne soggiocò la città e ne distrusse le mura soggiocò e nimmar ne distrusse le mura ne conquistò il territorio dall'agash fino al mare nel mare lavò le sue armi nella battaglia con gli abitanti di um fu vittorioso ne soggiocò la città e ne distrusse le mura a sargon re della regione ellin non diede alcun oppositore la regione del mare superiore al mare inferiore ellin ellin gli concesse leggendo questo testo che cosa capiamo? lo so siamo un po' stanchi volete fare una pausa? no e mi sa che si capisce che Sargon insomma ha conquistato parecchi luoghi insomma è bellissimo è vero che lava le armi nel mare toglie il sangue dei nemici del mare è una bellissima stagione diciamo che quella è la parte più colorita quando uno vince tende sempre a dire sono stato più bravo degli altri ovvio però perché qua dice distrusse le mura di Uruk ne distrusse le mura di Eninmar la battaglia di Colum è vittorioso e quindi non sono più città-stato ma è finalmente un impero esatto sono le fonti e ce lo dico non è che ce lo dice qualcun altro quindi in realtà solo perché Sargon fa scrivere una cosa del genere noi sappiamo che era un impero perché anche perché Regno di Sargon non è che durò tantissimo tra lui e il nipote furono tipo 150 anni 200 anni al massimo capito il fatto anche che distrusse le mura fa capire che comunque a loro non servivano più cioè le conquistò quindi distrusse le mura ma a loro le distruggeva anche per non far sì che loro ritornassero a diventare re a loro volta cioè per fare un impero che cosa ha dovuto fare? Ha dovuto distruggere le difese delle altre città ok? Ce lo dice tutte le fonti ce lo dicono non è che l'ha inventato in niente e poi che dice la regione del mare superiore al mare inferiore è lì concesse che cosa è il mare inferiore e il mare superiore? Eccolo qua il Mediterraneo orientale ok? E il Golfo Persico e il mare inferiore ma ovviamente non considerate questo come Golfo Persico ricordate sempre che il Golfo comprendeva già tutta questa zona qua c'è stato qua se ne parlerà poi volendo ci sono molte informazioni a livello geografico se uno vuole unire storia e geografia deve unire storia e geografia c'è la salinizzazione delle terre ok? che ha portato poi a perdere parte del Golfo per della terra che però era piena di sale insomma ecco infatti ancora oggi si ci stanno procedure di salinizzazione del territorio ok? ci siete? Accad purtroppo in molti libri viene identificata qua ok? o un po' più giù purtroppo non è mai stata trovata quindi non sappiamo precisamente dove si trova la città di Accad anche il fatto che venne fondata una nuova capitale fa capire che si parla di regno di impero accadico addirittura si parla proprio perché riunì le città sotto un unico sovrano e fondò una nuova capitale ok? il nipote Naram Sin eccolo qua che cosa fa il nipote? sottomissione della terra di Elam dal tetto di alleanza ricordiamo che Elam è qua cioè questo era l'impero di Sargon che è il nonno e questo è Elam cioè è praticamente il vicino più prossimo ok? quindi fa un trattato di pace questo trattato di pace vediamo che fa un'invocazione di divinità ma quale divinità utilizza? 26 Elamite quindi non accadiche non sumeriche Elamite 2 sumerico-accadiche e 3 accadiche che vuol dire che in realtà questo trattato è riconosciuto da entrambe le parti non è un'imposizione un'imposizione di un re sopra un altro re non è che quei trattati di pace che io dico va bene siamo in pace però mi devi dare tutto il tuo esercito devi distruggere le tue fortificazioni e praticamente devi pagare un tributo ogni ogni tot mesi come successe per esempio quando venne chiesto ad Atene di distruggere le mura del Pireo vi ricordate ok venne utilizzate le divinità di entrambi per far capire che era qualcosa deciso quasi a tavolino ok che cosa fece a Filippo II padre di Alessandro Magno quando salì al trono quando salì al trono i territori limitrofi cioè tutti gli alleati intorno lo attaccarono come si può uscire da una situazione del genere secondo voi lui li contrattaccò e conquistò i territori a uno stato come quello di Macedonia che all'epoca di Filippo era veramente molto piccolo poteva contattare quattro eserciti diversi si scende a parti alleati quindi che ha fatto ne ha combattuto uno e ha pagato gli altri tre ne ha sconfitto uno perfetto ne ha attaccato un altro e ne ha pagato gli altri due ha sconfitto pure quella e così ha fatto per riconquistare tutto se io ho appena ottenuto un territorio vasto come quello di Accad è già difficile governarlo che faccio comincio una guerra dispendiosa per attaccare i miei vicini o cerco di andare ad entrare in patti con loro cercherò di entrare in patti e quindi questo fa una Ramzin esattamente questa la prima cosa che fa è questa entra a patti col sovrano di Elam che era pure molto potente ricordiamo che il territorio il regno di Elam è il protromo diciamo di quello persiano quindi era abbastanza importante e qua descrive quali sono le parti che lui conquista in più cioè quello Ibla Ebla e Arman che in realtà è questa regione qua ok e il dono Amano che è la montagna dei cedri quindi il Libano ok quindi ricordiamoci che Accad probabilmente era qua lui che fa da questo territorio che ha occupato il padre arriva fino a qua ecco perché già il padre parlava di regione del mare superiore e mare inferiore perché per loro qua già era mare superiore perché qua non ci erano mai arrivati ci pensò Naramsin ad arrivarci vedete dove arrivò ricordiamo che questo è sempre colfo persico eh è l'amera il vicino prossimo lo vedete eccolo qua questa è una stelle che ci fa capire anche il passaggio di idee tra impero e città-stato e tra re e divinità ok questo scontro che Naramsin ha contro i lullubiti dei monti Zagros fin dalla lezione scorsa abbiamo detto che quando uno sconfigge un territorio soprattutto se è limitrofo se è vicino al territorio vero e proprio dell'impero del regno della città-stato la prima cosa che si fa si costruisce una stella di confini per dire vedete che cosa succede se attaccate e questa è stata una delle monti Zagros erano i monti che erano a est rispetto al territorio di Accad dove spesso i lullubiti erano una popolazione nomade non è che erano un vero e proprio una vera e proprio popolazione in essenziale ok che succede ecco qua ritroviamo l'esercito regolare schierato e disciplinato e l'esercito è allo sbando dove nessuno è più in linea vi ricorda qualcosa? pronto pronto abbiamo visto prima esatto sentite volete fare 10 minuti di pausa 5 minuti di pausa sì vedo delle teste dicono sì quindi ci vediamo qua esattamente alle 18 va bene per l'ultima oretta va bene a dopo ciao grazie grazie a tutti 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 mi dispiace mi dispiace sempre mi dispiace sempre che per vedere il powerpoint non riesco a vedere voi quindi ogni tanto vi parlo di qualche espressione qualche cosa va bene va bene riprendiamo dove eravamo abbiamo visto che appunto si perfetto abbiamo visto appunto come diciamo l'utilizzo della dell'arte perché comunque si parla di arte quando si parla di stele È sempre comune, non importa i secoli, ma è sempre comune negli anni, nei secoli, perché comunque la rappresentazione per quanto riguarda le vittorie sono sempre uguali, dove c'è sempre ordine per il vincitore e disordine nel perdente, nello sconfitto. Infatti avete visto l'esercito regolare come nella steve degli avvoltoi, così nella steve di Naramsin è un esercito ordinato, mentre gli sconfitti sia in uno che in questa occasione sono sempre i corpi scomposti, messi un po' alla rinfusa accanto. Ok? Ecco lì qua, abbiamo visto, no? Ricordate, sì? Sì, sì. Non è passato tanto tempo, dai. Ok, questo è Naramsin. Per la prima volta è più grande del doppio rispetto agli altri. No? Lo vedete? Questi sono gli altri, questo è lui. Che ci dice questa stele, quindi? Cioè, questa interpretazione grafica, che cosa comporta? Perché si è fatto rappresentare più grande degli altri? In effetti dimostra anche un po' la differenza rispetto ai monarchi precedenti, è vero? In senso molto lato per la spiegazione che verrà dopo, sì, ma sicuramente non pensa ai sovrani precedenti, Naramsin. Anche perché lui l'ha conquistati, quindi perché si dovrebbe paragonare? No, per far vedere che è più grande. No, no. È troppo filosofico in questo momento. È vero, è vero. Chi è che veniva rappresentato più grande nella stele degli avvoltoi? La divinità. E quindi? Lui che cosa, con questa rappresentazione cosa vuole dire? Fonda la teocrazia, quindi? Diciamo che lui stesso è quindi diventato che cosa? L'appresentazione della divinità. Esatto. Dio. Cioè, lui stesso è divino. Qualcuno che ha un microfono di un certo... Ok. Capito quello che voglio dire? Cioè, solo dalla stele noi capiamo che c'è stato un cambiamento con l'impero accadico. Non è più il sovrano di una città-stato che influenza le altre. Ma c'è una città-stato, è il sovrano di una città che è diventata capitale di un impero, Accad, e lui stesso si è portato, si è rappresentato come divinità all'interno rispetto a tutti gli altri. Quindi si fa rappresentare più grande. E che fa? Che gesto fa qua? Si vede poco. È un piede sopra uno sconfitto. Ok, che cosa vi ricorda? Ci siamo? Ci siamo? Sì, poi sembra anche avere un bastone. Esatto, vabbè, ma quello è... Sì, è quello, insomma. Secondo lei, lo scettro del re d'Austria, da che cosa deriva? Eh, somiglia. No, no, è proprio quello. È quello. Anche perché se ci fa caso, è sempre cilindrico, è un bastone che ha o da entrambe le estremità, o sulla sommità superiore, una sfera, un qualcosa a forma diamantato, un qualcosa che comunque ricorda la mazza da guerra, insomma. Infatti, quando Napoleone si fa rappresentare, come si dice, fa le sue statue, mette il mondo sotto al piede e lo scettro non in posizione orizzontale, ma verticale. Ok? In più, che cosa si identifica che è divino questo, che è diventato una divinità questa persona? Eccola qua. Per la prima volta un re viene rappresentato con la corona, con le corna. Cara, una prerogativa divina. Le vedete le corna? Pronto, pronto. Perfetto. Eccola qua. Questo è il dio Ea, per esempio, che si può vedere che aveva la corona con le corna. Ok? In più, in alto, c'erano le stelle che rappresenta il dio del sole Shamash. Ah, dovevano essere tre. Spesso ho trovato in libri che c'erano due perché se ne erano due, però si capisce dai segni che ce ne erano tre. Vabbè. E perché questo è un altro simbolo di divinità? Perché, come vedete, il sovrano si sta dirigendo proprio verso l'alto. Non è rappresentato come colui che sovrasta solamente i sconfitti, ma come colui che ha lo sguardo verso l'alto, cioè verso la divinità. Lui stesso è paragonabile a una divinità. Ok? In più, nel testo, che è questo, viene usato per la prima volta il termine d'Inghir, cioè divinità, come determinativo per il nome del sovrano. Che non era mai capitato fino adesso. Quindi vedete, in un'unica stella, che cosa ci fa capire? Come ci introduce alla tematica dell'impero accadico? Perché Sargon prima, ma soprattutto Naramsin dopo, che ha fatto? Ha espanso l'impero fino ai confini allora conosciuti. Abbiamo detto il mare superiore e il mare inferiore. E ha stretto trattati paritetici con i sovrani confinanti. E soprattutto ha cambiato la concezione da città-stato a impero, come? Divenendo gli stessi una divinità e sconfiggendo una per una le città che lo componevano, come ci ha descritto nel testo iniziale di Naramsin che abbiamo trattato, ok? In più, questo ulteriore testo, ovviamente vedete dove era? È un testo sopra un uomo, si vede solo un ampezzo, che offre un qualcosa. Quindi è dedicato ad una divinità, ok? Quindi fa capire che anche lui, pure se divino, ha comunque il benestare degli dèi, ok? Quindi Naramsin, il forte re di Akkad, quando le quattro parti del mondo insieme si ribellarono... Quattro parti del mondo... Vabbè, leggiamolo prima, poi vediamo che cosa vediamo. Per l'amore di cui Ishtar lo amò, nove battaglie in un solo anno vinse e catturò i re che si erano opposti, poiché da una situazione di difficoltà le radici della sua città aveva reso salde, gli abitanti della sua città, con Ishtar in Eanna, con Elil in Nippur, con Dagan in Tuttul, con Ninkursag in Kish, con Enk in Eridu, con Sin in Ur, con Shamash in Sippar, con Erkal in Kuta, come dio della loro città Akkad, lo desiderarono. Entro Akkad e il suo tempio costruirono. Cosa ci fa... solo questo testo? Se io avessi cominciato una lezione con questo testo, che cosa ci avrebbe fatto capire? Ovviamente semplificato nei nomi per quanto riguarda magari una primaria. Cioè io ho letto questo testo, che cosa ho capito? Mi sentite? Sì, la vittoria contro i ribelli. Perfetto. Che non erano ribelli, eh? Attenzione, eh? Qui stiamo parlando, stiamo parlando di... catturò i re che si erano opposti. Non erano solo ribelli. Non è che si erano ribellati a lui. Lui le aveva conquistate. Il forte re di Akkad. Non è che erano con questo divino che si erano ribellati. In effetti, diciamo, passa con essere poi il dio della città di Akkad. Di Akkad lo desiderarono. Quindi c'è una specie di... Eh, ma... ...divinizazione, come dire. Lei mi fa piacere che è arrivato subito alla fine, ma è giusto? Perché è il suo tempio costruito, non costruito? È il tempio di Elil, di Eanna, di Dagan, di Nincursag o di Enche. Ma è il tempio del dio Naransin. Sì. Eh, quindi lui era dio in terra. Aveva un tempio dedicato a lui. Perché diciamo, riparte come re. No, Naransin, il forte re di Akkad. E poi diventa Dio, insomma. Non solo diventa Dio, ma chi è che l'ha voluto come loro Dio? Chi l'ha voluto come loro Dio? Tutti questi, da come capisco io. Le città conquistate da lui? Cioè, ci rendiamo conto? E lui conquistando queste città, che cosa ha conquistato in realtà? Le quattro parti del mondo che all'epoca si conoscevano. Dicendo quattro parti del mondo, ha voluto dire che il suo non era più né una città-stato, né un piccolo regno. Ma era un regno immenso, un impero. Ok? Ecco perché noi spesso sui libri c'è scritto impero accadico. In più ha fatto vedere come le stesse popolazioni che ha sconfitto hanno eletto non solo a capo loro, ma a divinità essa stessa. Chi è che si fa definire Dio in epoca, diciamo, post, in epoca greca in poi, diciamo così? Cioè, è la prima volta questo che accade nel vicino oriente, ma dopo accade più spesso o meno spesso? Era solo per il creativo orientale? E mi sa che Alessandro Magno aveva questa... Benissimo, Alessandro Magno. ...una aspirazione. Perché poi era diventato anche faraone, quindi... Certo. Però quella è stata una cosa in più. In più? Dopo Alessandro Magno, dove è il periodo greco? Che altro periodo ci abbiamo? Diopreziano. 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 Gli imperatori romani, alcuni. Gli imperatori romani, cioè c'era il tempio per il genio dell'imperatore, ricordiamocelo. Capito? Che cosa dice Traiano quando gli si fa la domanda... Ma io come faccio? Io che cosa devo fare per distinguere un ebreo da un romano? Ve lo ricordate? No, no. Dice... Se fa sacrifici all'ingegno dell'imperatore, allora non è ebreo. Ok? Cioè, la possibilità di rendere omaggi divini ad una persona in vita è una cosa nuova in questo campo, ok? Lui, con questo testo, noi capiamo come è cambiato e switchato il concetto di sovrano. Non è più, come abbiamo visto prima, comparato, equiparato al sacerdoti. Ma era lui stesso divinità, ok? In più, la espansione tale che ci dà questo testo ci fa capire che era diventato un vero e proprio impero. Ok? Ci siamo? E poi niente, come tutti i grandi imperi, anche questo è dovuto finire, insomma. Adesso, dopo questo, dopo la dominazione dei Gutei e degli Amorrei, che comunque sono... I Gutei vengono dal nord, mentre gli Amorrei dal sud. Una volta che è caduto l'impero, Accadio, vi ricordiamo, compendeva tutta questa zona, ok? Tutta questa zona, ok? Ovviamente, senza un potere centrale, che succede? Cioè, la frammentazione dei poteri, del potere. Più che frammentazione dei poteri, è giusto come concetto, ma più che frammentazione dei poteri... Del territorio. Esatto, quindi ogni città che cosa fa? Riacquista la sua forma di città-stato. Esatto, bravissima. Autonomia, diciamo. Benissimo. La propria indipendenza. Perfetto, quindi le città cominciano ad avere il loro... Un sovrano emerge a un certo punto, non avendo più condizionamenti esterni. Cara, la stessa cosa che era successa in che periodo e dove? Se vi ricordate la scorsa lezione? Durante i periodi intermedi. Bravissima, esatto. Soprattutto durante il primo periodo intermedio, perché poi abbiamo visto già che nel secondo c'era la cosiddetta, ormai possiamo dire, invasione... Invasione degli Ixos. Ixos, esatto. Mentre poi nella fase successiva, nel terzo periodo intermedio, in realtà, appunto, come abbiamo visto, solo in pochi dei governatori, dei nomoi, prendono il potere e diventano delle vere e proprie dinastie. Mentre invece nel primo periodo intermedio succede molto di più. Ok? Quindi, esatto. Come vedete, le storie si ripete. Una volta che il potere centrale crolla, i potentati cominciano a prendere, ad avere influenze maggiori su un territorio maggiore. Ok? Io vi paragono, vi faccio paragoni in giro per la storia. Non tanto perché per velletà, ma per far capire come le cose non sono mai sconnesse da quello che succedeva prima rispetto a quello che succedeva dopo. E soprattutto, per esempio, il confronto del vicino oriente Egitto è normale per il fatto che spesso, ed è una cosa che non si riesce spesso a capire, soprattutto a spiegare a scuola, e che avvengono nello stesso periodo. Non è che nel 2100 l'Egitto si frizza e rimane il vicino oriente che comincia ad avere i suoi eventi. Ma queste cose sono concomitanti. Ok? Ci siamo? No, ci siamo. Giusto? È molto difficoltoso spiegare che mentre avviene una cosa, in realtà in un altro posto avviene la stessa cosa o cose diverse, ovviamente, però continuano ad evolversi le culture. Non è che una volta che gira il capitolo e ho finito l'Egitto, l'Egitto me lo devo scordare. Ok? È complicato, secondo voi, spiegare una cosa del genere? È complicato per i ragazzi capirla, perché se loro leggono capitolo 1 vuol dire che quello che c'è scritto nel capitolo 1 è successo prima di quello che è successo nel capitolo 2. Esatto, esatto, esatto. Questo spesso avviene, soprattutto ultimamente, per una cosa che ho notato, per il fatto che spesso adesso sui testi non si trovano più date precise, soprattutto per quanto riguarda le popolazioni antiche che stiamo trattando noi. ma si parla molto spesso di millenni e secoli. Quindi spesso il vedere il millennio ti sembra una quantità talmente elevata e non puntuale che non sempre viene colta come qualcosa di... come posso dire... come un contenitore nella quale posso succedere tante cose. Ok? Mentre se io dico 1295, io vedo... aspetta, ma tu mi hai citato 1295 per, che ne so, la battaglia di Kadesh in Egitto, mi hai citato 1295 anche per il periodo, che ne so, neobabitonese, che ne so, la fine della civiltà, della dsdvur terzo. Ok? Il fatto di citare una data puntuale magari può aiutare a confrontare quello che avviene in quelle date. Ok? Ok? Ci hai fatto caso? Eccoli qua, coloro che hanno portato l'apoteosi, la tessenza di Ur. Ur-Nammu e Sul-Ghi, ovviamente, no Sul-Ghi, Sul-Ghi. Che erano padre e figlio, che però il padre, diciamo, ha iniziato a dare formazione alla città-stato, che prima era appunto suddita dell'impero accadico, ma soprattutto il figlio, eccolo qua, Nippur, questa è la rappresentazione del figlio, scatola di fondazione del tempio di Elil, dietro della tempesta, ecco qua l'archeologia che ritorna anche come un'unica foto, anche se già l'oggetto che è arrivato fino a noi fa capire la valenza dell'archeologia. È rappresentata a forma di chiodo, vedete, questa è la testa del chiodo e questo è il corpo, perché è il chiodo con il quale è stata costruita la prima roccia, è stata squadrata la prima pietra per la fondazione del tempio di Elil. E quindi per ricordarla, ovviamente qua c'è, dietro c'è una parte di testo che dice tipo, non verrà mai distrutto questo tempio perché l'ho costruito io, chiunque lo farà, peste, lo colga, ok? Oh, il primo codice di legge, di chi stiamo parlando? Chi stiamo parlando? Amorabi. 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 Ci siamo? Tutti d'accordo? Sì. Eh, quanto sembra, sì, viene considerato sempre il codice come prima legge scritta. E invece no, vi abbraccio subito che non è così. Ben tre secoli prima di Amorabi, il famoso urnammo citato precedentemente ha fatto il suo codice di leggi, primo codice di leggi, ok? In questo, è il testo che è la stela del codice che avete accanto, dice proprio in questo tempo urnammo disponeva queste leggi secondo i suoi principi di equità e verità. Allora urnammo, il potente guerriero, re di Ur, re di Sumer, re di Akkad, stabilì la giustizia nel paese, bandì le meditazioni e la violenza e le risse. Da questo, oltre che archeologicamente parlando, epigraficamente parlando, vabbè, ma questa è solo una curiosità che vi dico io, si pensa per il fatto appunto stilistico del testo che sia stato il figlio Shulgi a scriverlo e l'ha dedicato al padre un ammu, ma non era, non l'ha fatto proprio un ammu, ma questa è una curiosità. Ma il testo che ci dice? Che il potente guerriero, come vi ricordate in Aram Sim diceva, re di Akkad è il potente, ok? Ma era anche urnammo, terza dinastia di Ur, quindi della città di Ur, re di Ur, ma non solo, re di Sumer e re di Akkad. Avete visto che non sono citati re di Kish, re di Lagash, re di Eridu, ma re di Sumer e re di Akkad, che ci vuole dire? Che all'epoca di Urnammo, cioè della testa di Ur, non da tutte le parti si era creato città-stata autonoma, ma anche piccoli regni Sumer, piccoli regni Akkad, ok? Non è che c'è la città di Sumer, era un territorio che veniva indicato come appartenente e come identificato come Sumer, ma non è che è il nome di una città, Sumer, ok? E Akkad in questo caso sta ad indicare un territorio e non una città, ok? Scusiamo? Pronto, pronto? Ok, questo adesso che cosa ci dice anche? Ok. E furono messe per iscritto le leggi che appartenevano all'oralità, quindi per la prima volta sono in funzione anche dei sudditi. Certo, dei sudditi, giusta, ottima parola. Ma perché un re dovrebbe scrivere il codice delle leggi, dovrebbe far scrivere un codice delle leggi, se è lui la legge? Ma in effetti magari avendo tanti territori, vuol farli conoscere, far conoscere le sue leggi anche appunto a Sumer e ad Akkad. Benissimo. Avevano magari altre leggi e invece le leggi adesso sono quelle mie. È giusto, aveva, giusto, benissimo, aveva altre leggi e questo è cosa che ci vuole dire? Se io, re di un territorio, mi occupo di religere un codice che deve andare bene per tutto il territorio, che stiamo parlando di città-stato o stiamo continuando a parlare di impero? Comunque regno, più che impero, regno, ok? Di regno, giusto, ok? Quindi ce lo dice il testo e pensate che la dinastia è definita terza dinastia di Ur, quindi si parla in questo momento di città e invece ci fa capire il testo che non è un ritorno alla città-stato, ma è che Ur è diventata capitale di un vasto regno, ok? E ma soprattutto perché fa questo codice? Per i suoi principi di equità e verità. Cioè, in realtà, la legge a cosa serve in realtà? Serve perché il re, il sovrano è a rischio vita? Serve a questo il codice delle leggi? No, se no. No, a cosa serve? Per? Per tenere il controllo di questo paese così vasto. Benissimo. Perché io mi rivolgo al re? Solamente perché è il più potente? No, perché è più saggio. Perché è più saggio e soprattutto perché sa dove sta il bene e dove sta il male. Ecco l'equità e la verità. sa qual è la pena giusta per chi ha commesso qualcosa e la spiegazione giusta a chi porta un interrogativo, ok? Eccolo qua, i principi di equità e verità. Equità per tutta la popolazione, quindi non c'è più distinzione di ur, sumer e accad, perché c'è l'equità. E verità perché lui, essendo divinità, sa qual è il bene e il male da seguire. Eccolo qua, un ammo. Questo, eh? Eccolo qua, alcune delle leggi. Se un uomo commette un omicidio, quest'uomo si è ucciso. Se un uomo commette una rapina, quest'uomo si è ucciso. Che cosa vi ricorda come tipologia di legge? Scusate. Il taglione. Oh, ma noi stiamo parlando del codice di Hammurabi, eh? Sì, però probabilmente il codice di Hammurabi allora avrà ereditato la stessa funzione dell'occhio per occhio, dente per dente. Esatto, non è che è ereditato la stessa funzione, è che la legge conosciuta all'epoca e che è stata tramandata per poi essere sviluppata da Hammurabi, era quella scritta già nel codice di Urnamu. Quindi non è che ha fatto come... Anche Costantino, quando ha scritto il digesto, quando ha scritto il codice delle leggi romane, ha fatto scrivere. Secondo voi ha inventato delle leggi? Ha recuperato quelle che c'erano prima, adattando quello a cui... Quello a ciò che serviva e poi ha sistemato. Bravissima! È la stessa cosa fatta a Hammurabi, non è che si è inventato qualcosa. Quindi la sua fonte primaria era il codice di Urnamu, molto probabilmente, però ovviamente poi l'ha adattata al contesto, ci mancherebbe. Eccolo qua. Era egalitaria, come nel primo periodo faraonico la società, diciamo, di questo periodo, nel Viceoriente. Leggiamo questo. Se uno schiavo sposa una schiava e questa schiava è liberata, egli non lasci la famiglia. Quindi che cosa vuol dire? Che seppure uno schiavo sposa una donna che viene liberata, comunque rimarrà schiavo, non c'è salto di livello, ok? Ci siamo? Io capivo invece, non lasci la famiglia, cioè la famiglia della moglie. No, no. Ma invece la famiglia perché lavorava. Esatto. Non lasci il suo padrone sarebbe. Infatti egli non lasci la famiglia, no, ella non lasci la famiglia. Quindi lei può andare in realtà? No, lei può andare a vivere nella catapecchia del marito. Questo può fare. No, però nel senso che, diciamo, il nucleo familiare non cambia se uno dei due ha uno status diverso. In più, tra uomo e donna c'era la parità, secondo voi? Ma secondo me no. Vero? E chi ce lo dice la legge? Eccola qua. Se la moglie di un uomo si interessa a un altro uomo ed egli va a letto con lei, bisogna uccidere questa donna, ma si è lasciato libero l'uomo. Eh, lo so, purtroppo, diciamo che la donna nel Vice-Oriente è stata considerata sempre molto poco, tranne in Egitto, quindi se volete sferirvi in Egitto, ben venga. Lo espliciti, tra l'altro, molto diretti. Sì, 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 diciamo che la pudicizia nelle espressioni nasce molto dopo, ok? Soprattutto dopo il Medioevo, ok? Eccolo qua. Nel testo del codice è scritto anche questo. Ha forgiato l'asila di bronzo, ha standardizzato il peso di una mina e il peso di una pietra di uno shekel di argento in relazione a una mina. Che ci dice questo testo? Questo è scritto nel codice, eh? Non è un testo a parte, eh? Che cosa dice il testo? Questa è la mina, scusate, questa è la mina che citava il professor Pettinato durante il video, eh? Ok. Ha dato quindi anche delle indicazioni economiche, produttive, per evitare le fruttazioni quindi nel peso delle unità di misura. Diciamo, in parte, non è proprio quello lo scopo, diciamo, però non è tanto dissimile. Che cosa ha fatto? Perché ha dovuto... Anche lì magari ha unificato pesi e misure. Oh! Lo regno. Ma perché una... Ho unificato le leggi, pesi e misure. Eh, quindi, ricordando, perché ha dovuto unificare i pesi e le misure? Perché aveva un territorio... Perché aveva? Un territorio composto da diversi regni che avevano quindi culture diverse. Bravissimi, esatto, esatto. Favolire commercio. Per il commercio, in realtà, come vedete, anche adesso ci sta... Se io commercio con l'America, loro non mi parleranno mai in chilometri. Ok? Più che per il commercio, per... Se io, re di Ur, chiedo alla città di Uruk, mandami 500 mine di... Mandami 50 mine di orzo, Ur, non deve chiedermi a me, sì, ma che cosa intendi? Lo sa benissimo. Ok? Che cosa fece Napoleone quando ha conquistato parte dell'Italia, la Francia e non solo? Uniformatole, unità di misura. Esatto, no? Il nostro metro sta a... Non mi ricordo qual'istituto francese conservato. Il secondo è conservato come quanto ci mette un certa quantità di materiale a evaporare. Cioè, a standardizzare le misure, i pesi e le misure, serve anche a creare unità in un territorio molto vasto. Ok? Chiediamo? Vedete le fonti che come ci dicono? Questa è la rappresentazione di una mina. Cioè, era un peso e mettere sulla bilancia già sapevi che valeva 500 grammi. Ok? E' come se adesso mettessi sulla bilancia una bottiglietta d'acqua. Ok, eccoli qua, babilonesi, finalmente. Abbiamo detto gli Amurrei da sud, i Gutei da nord. Secondo me perché non sono andati in Egitto? E questi non sono andati, diciamo, a est? Perché probabilmente sapevano che in Egitto c'era un impero potente, quindi non gli conveniva. Esatto. Cosa diceva Giulio Cesare quando è andato in Grecia? Eh sì, nel territorio celtico. Nei Galli, il territorio gallico, scusate. Per governare, per comandare, per imporre l'imperium. Cosa diceva? E cosa si dice anche adesso? Come dirlo? Di me, divide e ti impera. Bravissima, esatto. Io avevo qua un unico imperio, un regno piccolo che era quello di Urre, più tante città-stato. Era più facile attaccare loro o attaccare un impero unico? Loro. Esatto, esatto. In più, secondo voi perché si sono spostati? Stiamo parlando di Segutei che gli Amurrei erano popoli nomadi, eh? Non erano imperi o regni, eh? Non c'era un capo. Quando, prima di arrivare nella mezzoruna fertile? Sì, di conseguenza si spostavano in base alla ricerca di nuove risorse alimentari, di nuove ricchezze. Quindi i fiumi, tigri e eufrate, non soltanto i fiumi, ma proprio quel posto era molto ricco e fertile e anche tutti questi imperi erano una ricchezza. Esatto, esatto. Ma soprattutto, cosa si dice? Perché a un certo punto io che sono, ho sempre vissuto qua, mi devo spostare qua? O comunque mi devo spostare a cercare territori più fertili? Che è successo nei miei territori? Perché non sono rimasto nei miei? Beh, potrebbe... Potrebbe esserci una carestia, potrebbe esserci stata. Esatto. C'è una teoria che dice che la maggior parte degli spostamenti di popolazione dipende, dipesa, da cambiamenti climatici, come la maggior parte delle invasioni barbariche che hanno portato alla fine dell'impero romano d'Occidente, molto probabilmente, l'invasione degli Unni, molto probabilmente, tutti ebbero come origine dei cambiamenti climatici che portarono terre fertili a terre non fertili. Di conseguenza lo dovevi spostare per poter continuare a sopravvivere. Ok? Scusiamo? Anche questo, anche il fatto, ce lo spiegano queste invasioni. Ma chi erano gli amorrei, appunto? Noi abbiamo detto, era una popolazione che da sud si sposta verso nord, cioè verso la mezza runa fertile. Tiene in aiuto un mito sumero, che è questo. L'uomo martu, che scava... La descrizione dell'uomo martu, era la definizione di Amorreo, eh? Che scava tartuffe ai piedi della montagna, che non piega le ginocchia, che mangia carne cruda, che durante la vita non ha casa e che dopo la morte non ha sepoltura. Che ci dice questo testo? Uno, una cosa, secondo voi, rispetto alla Mesopotamia, rispetto alla terza dinastia di Ur, che poi forse non sempre viene citato, ma è di una ricchezza esorbitante. Beh, è povero un barbaro. Povero e barbaro, esatto, esatto. L'uomo martu, quindi l'amorreo, che scava tartuffi, che vuol dire? Che non si dedica all'agricoltura, perché se scava, se raccoglie quello che già esiste, non si dedica all'agricoltura. Che non piega le ginocchia, questo è fondamentale, soprattutto per la mezza runa fertile. Cioè non ha alcuna religione, non si inginocchia davanti a nessuno, ok? Che mangia carne cruda, quindi non è civilizzata, abbiamo detto. Come dicevano i greci, chi sono quelli che bevono il vino senza metterci l'acqua? Chi erano? I? I marbari. Esatto. E' questa stessa cosa. Chi mangia carne cruda? Chi non conosce il fuoco, in teoria? Cioè chi non la cuoce, ok? Che durante la vita non ha casa, quindi non è stanziale, non è urbanizzato, ok? E che dopo la morte non ha sepoltura, quindi non si dedica all'arte e alla cura degli antenati. Che, se ci pensate, è la prima cosa che nel periodo, nel sviluppo degli ominidi, ha portato ad un concetto anche di la cura degli antenati, ha portato anche un concetto di clan, perché gli antenati erano comuni a un certo punto, perché era un unico nucleo familiare che costituiva un clan, ok? E da clan, per villaggio, la villaggia città, ok? E questa era la descrizione tramite, fatta da, dai sumeri, diciamo così, dopo la distruzione, dopo la sconfitta di Ur, da parte degli amorrei, era la descrizione. Oh, finalmente siamo arrivati finalmente Hammurabi e finalmente parliamo di questo codice di Hammurabi, ok? Che abbiamo detto che è il primo codice di legge scritto? No. No. Ok, ok. Ah, ecco. E da quando, e da quando, sì esatto, e da quando c'è i bambini che ci dicono schiavi Egitto, Hammurabi il primo codice, tutto è nato. Sì, sì. Hammurabi il primo codice, schiavi Egitto, abbiamo detto che abbiamo sfatato questo min. Esatto, l'ho detto subito ai miei alunni, mi hanno detto, ma prossima, pagina 83, c'è scritto così. Sì, ho capito. Ma lei giustamente ha detto ai suoi studenti, noi ci dobbiamo basare sulle fonti, no? Sul libro. Esatto. Quello che ho detto. Esatto. Ok. E invece no, questo quindi posso dire è il secondo codice conosciuto di legge, ok, eccolo qua. Che cosa vediamo? Chi me lo sa dire? Riprendendo anche quello che abbiamo fatto finora, le fonti che abbiamo visto finora, chi è questo? È un uomo normale? È un uomo, quella divinità che offre il codice ad Hammurabi, il bastone. Perfetto. Questo non è il bastone, eh? Questo non è il bastone. Queste sono le, è la tavola delle leggi vista in prospettiva. Sì. Allora, questo è il dio Shamash Marduk, perché riconosciamo le corna, le copricapo con le corna, ok? Eccolo, questo consegna i tavoletti, come quando Mosè sale sul monte, ok? Consegna i tavoletti ad Hammurabi, ok? Io l'ho sempre visto come uno scettro, diciamo. Perché dovrebbe essere messo al di sopra del codice, se fosse uno scettro? Lui era già re. Ricorda anche un po' Urnamu seduto, no? Come? Non ricorda anche un po' Urnamu seduto? Certo, certo. Certo, solo che in questo caso, qua, che cosa vuole far vedere Hammurabi? Che quello che dice non è frutto della sua, del suo cervello, ma è frutto di una, di una conoscenza divina che gli è stata data dal Dio. Ok? Infatti, se vedete, Hammurabi, il Dio, è vero che è seduto, però sono alla stessa altezza. Ok? Quindi, anche lui, non è che è uno qualsiasi. Ok? Anche Hammurabi. Ok? E che cosa ci dice? Eccolo qua. Questa è l'introduzione del codice. Non è che il codice parte subito con le leggi. Probabilmente che dice che Hammurabi, ok, arricchisce Nippur e Durilu, ristabilì Erido, conquistò i quattro quarti del mondo. Quattro quarti che vuol dire? Quattro diviso quattro quanto è in una frazione? Uno. Quindi? Quanto conquista del mondo? Tutto. Tutto. Quindi per lui è diventato un impero, capito? Cioè, il Babilonia è un impero. Ce lo dice la fonte stessa. Ha arricchito Ur, ha dato le basi a Sippar, custodiva Larsa, nuova vita Uruk, ha riunito gli abitanti dispersi di Isin. Che ci vuole dire con questo testo? Che cosa ci vuole dire? Che quindi che ha fatto Hammurabi? Ha unificato tutte le regioni. Di nuovo. Quindi voleva dire che prima si era rifatto come se ci fosse stato un periodo intermedio che lui ha ricolmato, ha ricostruito un unico sovrano che governava su più città. Ok? Eccolo qua. Perché viene scritto un codice di leggi? Che lo dice lo stesso Hammurabi. Che il forte non ferisca i deboli per proteggere le vedove e gli orfani. Ok? Cioè, lui perché l'ha fatto questo codice? Perché i deboli non debbano sottostare ai più potenti. E soprattutto, che adoro, si ripete il mio nome lascia che l'oppresso che ha una causa venga e si presenti davanti a questa mia immagine come re di giustizia. Lascio leggere l'iscrizione e comprende le mie preziose parole. L'iscrizione spiegherà il suo caso a lui, scoprirà ciò che è giusto e il suo cuore sarà scontento. Capito? Cioè, lui non voleva ha fatto questa legge perché non voleva che ci fosse oppressione nel suo territorio. Diciamo che siccome appunto venga a leggere l'iscrizione, quindi un'iscrizione che di solito non viene messa all'interno della propria città ma magari messa in un'unica città appartenente al regno ma non la capitale, fa in modo che chi molta propaganda ha fatto a Murabi che chi lo legga è un sentito oppresso, cioè non è un suddito oppresso dal potere del re, ma è un suddito che tramite la benevolenza del re riesce a seguire la verità e giustizia che abbiamo letto nel codice di Urnamu. Ok? Ci siete? Ci siete? Lo so, sto andando un po' veloce ma sono le ultime slide. Ci siamo. Sì, ci siamo. Eccolo qua. Ma il codice ci illustra solamente quelle leggi al tempo di Hammurabi? anche aspetti della società tipo? Tipo il matrimonio mi sembra. Esatto, esatto. Come, come quale codice? Di Urnamu. Che era il primo? Il primo codice scritto. Benissimo, quindi non si è inventato niente. Eccolo qua. Sono 282 sentenze che regolano anche i rapporti civili ed economici all'interno della società babilonese. Salari, tariffe per l'affitto dei campi, obblighe dei contraenti di un contratto. Ok? Ma la legge è uguale per tutti? No. Perché no? Perché ci sono anche gli schiavi come nell'altra... Ma c'era solo il potente lo schiavo? C'era? Ci saranno stati gli schiavi gli schiavi stranieri donne, secondo me. Schiavi stranieri donne. Vediamo. Se un uomo nato libero colpisce il corpo di un altro uomo libero o di grado uguale, pagherà una moneta d'oro. Quindi che ci vuole dire qua, Murabi? Che praticamente ci stanno più classi sociali. O sbaglio? No, è così. Più classi sociali, allora. Infatti, lo stesso testo, poi questo è un pochino un po' più particolare perché vi do anche il nome indicato, ci parla di tre diverse tipologie. Uno è l'uomo, cioè il cittadino a pieno titolo spesso nobili. Poi c'era il muskenum, cioè l'uomo semilibero. C'era un uomo semilibero, ok? Cioè libero ma non possidente. In seguito la parola passa a definire un povero un mendicante, quindi considerate qualche evoluzione ha avuto questo termine. E in più c'era il guardum, cioè lo schiavo che poteva essere acquistato e venduto. Adesso nel Vice Oriente si parla di schiavi, non in Egitto, ma nel Vice Oriente ci sono sempre stati, ok? Oh, se qualcuno ha un debito per un prestito e una tempesta prostra il grano e il raccolto fallisce o il grano non cresce per mancanza d'acqua in quell'anno non ha bisogno di dare al suo creditore alcun grano. Ciò vuol dire che è equo, cioè se io non ti posso pagare non ti pago, giusto? Ci siamo? Quindi diciamo l'equità ci sta in questo caso, ma soprattutto lava la sua tavoletta del debito in acqua e non paga l'affitto per quest'anno. Vi ricorda qualcosa? Chi è che diceva che si doveva cuocere? La famosa tavoletta che non si accosta lavata. E quindi erano rispettabili? Ok? Quindi veniva anche dopo essere scritta, veniva lavata e riutilizzata. Poi si seccava al sole da sola, ok? Quindi erano sempre cicliche. Poi con l'avvento del papiro, con l'avvento della pergamena esistono i palinsesti, cioè esistono quelli riscritti. Una volta sbiadito l'inchiosso ci scrivevo sopra. Oppure addirittura utilizzavo una pagina per scrivere di un argomento e l'altra pagina, l'altra faccia per scriverci di un altro argomento. Ok? Però, grazie alle tavolette, essendo d'argilla, ci potevo riscrivere sopra quante volte volevo. Ok? Eccolo qua, vi dico, vi lascio con questa curiosità che è quella del medico, che se un medico fa una grande incisione con un coltello operatoro e lo cura o se apre un tumore sopra l'occhio con un coltello di operazione e salva l'occhio, riceverà dieci sidi. Quindi ci dice se il medico è stato bravo deve essere pagato. Ci siamo fino a qua? Sì. Però, come abbiamo detto, siccome non c'è proprio rispetto di tutte le classi sociali, dice se il paziente è un uomo liberato riceve cinque shekel, se è schiavo di qualcuno il suo proprietario deve dare al medico due shekel. Quindi, anche curare uno schiavo costava pochissimo. Ok? Quindi non è detto che il padrone spendeva soldi per farlo curare. questa è la prima considerazione della professione medica come mestiere. Ok? E da questo è una grande cosa visto che noi sentiamo parlare di medici soprattutto con i greci. Ok? Che infatti dove andavano a distruirsi i medici greci? In Egitto. In Egitto. Esatto. 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 Oh! La famosa legge del taglione abbiamo detto. Eccola qua. Se un uomo estrae l'occhio di un altro uomo il suo occhio sarà estratto. Se un uomo rompe l'osso di un altro il suo osso verrà spezzato. Quindi abbiamo visto è vero che ha portato delle innovazioni soprattutto legate al contesto della società. Ok? Ma sicuramente non ha dimenticato diciamo le leggi ataviche degli antenati riproponendole i numeri che vedete prima del testo è la legge numero 196 del codice. È la legge numero 197 del codice. Ok? Poi eccolo qua. Questo è l'epilogo dell'editto. L'editto finisce a un certo punto non è finisce con l'ultima legge. Scrive questo. Anu e Belle suoi due divinità hanno chiamato Mea Murabi il principe esaltato che temeva Dio per determinare la regola della giustizia nella terra. Nella terra ricordiamoci quattro quarti del mondo per distruggere i malvagi e gli operatori malvagi in modo che i forti non debbano danneggiare i deboli in modo che dovessi governare le persone per favorire il benessere dell'umanità. Vedete che cosa ci dice quest'epilogo? Sia che il sovrano lo fa per regolare la giustizia sulla terra quindi su tutto il suo territorio conquistato ma soprattutto dà una sorta di la famosa equità che diceva Urnamu cioè che il forte non deve essere forte dentro la propria città quindi non deve abusare del suo potere ma deve essere forte fuori cioè nel senso se fosse forte lo dimostri fuori cioè combattendo per il tuo sovrano non contro i deboli che secondo me è una un qualcosa di molto moderno che dite e tutto questo ce lo dice un testo che quando dico codice di legge o codice di Amurabi uno pensa è una serie di leggi no? che ci dice appunto leggi del taglione quindi tu mi fai uno sfregio te ne faccio un altro e basta invece abbiamo visto sia grazie a Urnamu sia grazie a Amurabi e leggendo sia l'inizio che la fine del codice cosa in realtà era questo codice ovvero la standardizzazione in tutto l'imperio di un regolamento che non solo non comportava il dover seguire un'unica voce che era quella del sovrano unico perché ricordiamo che lui ha conquistato i quattro quarti del mondo ok? e soprattutto dare delle linee guida sociali per permettere uno sviluppo interno maggiore ok? cioè il pagare un medico che per noi può sembrare una normalità era cioè per essere messo all'interno di un codice voleva dire che doveva essere indicato come come legge cioè bisogna dare diritto ai lavoratori di essere pagati ok? quindi diciamo che questo codice della legge oltre a riprendere i suoi antenati ricordiamo Urnamu ha fatto in modo di farci capire che anche Babilonia perché Babilonia in realtà prima di Hammurabi era una città qualsiasi non era capitale di qualcosa non è mai stata capitale di qualcosa al contrario dell'impero accadico non è stata fondata ex novo già c'era ok? e lui Hammurabi l'ha fatta capitale del suo regno considerando anche che il territorio andava dal mar Mediterraneo al golfo persico ok? quindi vedete che Babilonia sta molto vicino al golfo quindi non ha creato una capitale al centro del suo regno l'ha creata dove aveva più possibilità di governare il territorio ok? e in più anche dove aveva più risorse probabilmente e meno influenze esterne dove poteva essere attaccato ok? perché Hammurabi adesso noi lo consideriamo un bravo e potente re però appena sono arrivati gli assiri è bastato poco e ha perso subito insomma ecco finché non sono arrivati si è mantenuto ma dopo va bene domande? nessuna? osservazioni? no grazie direte ancora che il codice Hammurabi è il primo codice di legge scritto? prima alle mie amiche così si sconvolgono poi a tutti gli alunni esatto esatto ma soprattutto quando mi diceva lei diceva ma sul libro paggio 82 scritto che è il primo codice di legge vi siete mai resi conto che nei testi di scuola non sono mai indicate le fonti? ma non le fonti tale tale stelle è la stelle di ma nel senso che da quale testo è stata presa la parte scritta del libro? e su questa cosa ci ritorneremo ok? comunque sul nostro testo rinnovato per esempio c'era era segnalato che non fosse il primo testo e che il primo testo fosse sumero non veniva indicata precisamente la fonta meno male però c'è scritto e aggiornato a due anni fa ci stiamo evolvendo dai meno male sono contento anche per far capire che di solito soprattutto per i bambini più piccoli quando gli si dice qualcosa si pensa che uno un giorno si è svegliato e ha inventato quella cosa o quell'idea o quel concetto mentre invece c'è sempre una causa effetto in quello che si fa e anche le idee più diciamo che hanno funzionato di più sono frutto spesso di qualcosa di precedente ok tipo a murabi sicuramente non avrebbe mai pensato forse ad un codice di leggi così se non avesse avuto quello di un nammo e un nammo quando l'ha fatto l'ha fatto perché sicuramente giravano oralmente ma serviva un codice scritto perché se no uno faceva le leggi come voleva ok quindi la casualità perché è stata scritta e sicuramente senza se non si conosceva la lingua questo era impossibile ok quindi anche il codice stesso ci fa capire qual è stata l'evoluzione della lingua non più la trascrizione di derrate alimentari ma anche un concetto più universale di raggiungere più persone ok ecco perché poi si cominciano ad avere anche trattati filosofici trattati astronomici perché uno doveva divulgare quello che imparava ok bene se non ci sono altre domande ci vediamo giovedì prossimo e in più vi vi darò qualche delucidazione giovedì prossimo su un esercizio pensato che andrete a fare l'ultimo giorno di lezione tranquillo è una cosa brevissima non vi porterà via tempo in nessun modo anche se non così tanto come possiate pensare va bene allora vi ringrazio e buona serata arrivederci vi ricordo di mandarmi l'email sì 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 ok arrivederci grazie salvezza arrivederci 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 a tutti grazie a tutti Grazie.